Allora, buongiorno a tutti, direi che sono le 14.40, possiamo cominciare. Allora, questo è il decimo appuntamento di questa serie di incontri che l'associazione GIFOS assieme all'associazione GEAM col contributo dell'Università di Padova e del Politecnico di Torino ha organizzato, diciamo, per tutto, ne avremo sino a metà maggio e anzi, addirittura stavamo pensando di aggiungere altri due appuntamenti su temi che così nelle liste, nei social, sembrano essere interessanti. Quindi benvenuti a questo incontro che sarà condotto da Luca De Lucchi e Piero Tofanin. Ci parleranno di gestione e produzione di foto aeree, modelli tridimensionali con, interamente, con una filiera di software libero. Vi ricordo che, se volete, potete mettervi una mano sul cuore e una sul portafoglio per fare una piccola donazione all'associazione GIFOS o anche perché noi iscrivervi, grazie al vostro contributo riusciamo a organizzare sempre di più eventi e iniziative e ricordo anche per chi è inter e fosse interessato che c'era la possibilità di ricevere i crediti formativi per gli ingegneri. Non li abbiamo estesi a tutti gli incontri la possibilità di prendere i crediti, però crediamo che questo argomento di oggi in particolare sia molto interessante per chi fa professione nel campo della geomatica in generale e quindi abbiamo dato questa opportunità. Lascio la parola a Luca e Piero che diranno, chiedo loro magari di dare due regole ai nostri partecipanti che sono al momento 45, su come preferiscono gestire in totale autonomia ovviamente la loro presentazione. Avete visto che siamo riusciti a metterci in pareggio con la pubblicazione di tutte le registrazioni dei webinar, quindi niente, buon pomeriggio e ricordatevi di supportare il software libero. Bene, allora per quanto riguarda, rispondiamo subito alla domanda di Campus, fate le domande sulla chat e poi in base a che tipo di domanda è vediamo se stenderla tutti oppure se vi rispondiamo direttamente sulla chat. Probabilmente per le parti più tecniche, se sono problemi di una singola persona magari vi rispondiamo sulla chat, se invece è un problema teorico o generale vi risponderemo a voce. Intanto inizio a mostrarvi i slide così mi presento. Dovreste vedere la presentazione in questo momento. Io sono Luca De Lucchi, sono un geografo, sono la laurea breve all'Università di Genova presa nel 2008 e dallo stesso anno lavoro come tecnico GIS presso la Fondazione MAC. La Fondazione MAC è un ex istituto provinciale della provincia di Trento, diventata una fondazione di diritto privato. si occupa di svariate cose, tra cui agricoltura, alimentazione, ambiente e all'interno della fondazione mi occupo di tutta la parte GIS, geomatica, database, web GIS, un po' di sviluppo software, comunque tutto legato all'ambiente della geomatica. Sono socio di GFOS, dal 2008 mi sembra, faccio parte attualmente del consiglio direttivo e dal 2011 sono anche un charter member di Osgeo. I charter member sono persone che vengono votate ogni anno per farsi di portare avanti le attività della fondazione. Inoltre dal 2018 ho preso il patentino di pilota SAR e posseggo un drone, un esacottero con due camere, una RGB e l'altra NIR. A dire la verità non riesco a volare tanto quanto vorrei perché gli impegni sono molti e comunque per volare con un minimo di sicurezza, attenzione, eccetera, l'attività non è così veloce e immediata. Ad oggi mi sembra che ho fatto una ventina di ore di voli, non di più. Devo dire che tra i due presentatori il vero esperto è Piero, infatti avevo contattato forse, forse, sì, avevo contattato lui per fare la presentazione e me l'ha un po' ribaltata, mi ha detto dai fai te la presentazione e io ti faccio da spalla, mi ha detto va bene, ok, perciò magari per alcune domande molto più tecniche vi risponde lui. Vai, poi, io, presenti. Dai, dico qualche parola su di me. Io sono Piero, ho cofondato il progetto OpenDromap. Per essere più chiari, OpenDromap era partito veramente dall'idea di Stephen Madder, lui oggi non è con noi, però lui è la persona che ha iniziato il progetto. Il titolo di cofondatore mi è stato dato in base alle contribuzioni che ho aggiunto all'ecosistema durante gli anni, che sono un po' diventati sinonimi di OpenDromap. Come lavoro sono un ingegnere del software, ho una mia piccola azienda di software negli Stati Uniti, chiamata UAV4Geo, che è un'azienda di ricerca applicata, orientata sulla ricerca di software di mappatura per GIS e droni in particolare. Circa l'80% del lavoro che facciamo è dedicato su OpenDromap di recente, quindi è molto specializzata in questo campo. Prima di fondare UAV4Geo, per molti anni continuo a gestire la comunità di programmatori PieroTofi.it, che è attiva dal 2003 e si è sempre focalizzata sul software open source. Sì, nonostante quello che dice Luca, Luca è preparato moltissimo, quindi sono sicuro che sarà in grado di portare avanti la presentazione senza problemi. Grazie. Allora, perché open source? Forse se avete seguito altre presentazioni dei nostri seminari, l'avrete già sentito. Beh, uno degli aspetti forse più evidenti e per cui il software libero sta prendendo piedi è perché è gratuito, cioè non avete nessun costo, le licenze vi permettono di utilizzare il software senza nessun costo aggiuntivo e perciò sta prendendo molto piede anche perché i prodotti che si stanno sviluppando sono sempre più potenti e sicuramente non fanno rimpiangere soluzioni proprietarie. Nel nostro caso ODM, tutta la galassia, la struttura di ODM è gratuita, lo sarà per sempre, anche se un domani Piero decidessi di farlo diventare a pagamento dovrebbe rilasciare comunque le versioni precedenti con la stessa licenza. Perciò, bene o male, qualche d'uno potrebbe sempre metterci mano. Mentre il software probabilmente più utilizzato attualmente che è Pix4D, guardando sul sito, costa dai 216 euro al mese oppure 4.000 in una volta, che probabilmente per grandi ditte non è una grossa spesa. Per un piccolo libro professionista, 4.000 euro per una licenza di un software può essere una parte abbastanza importante della sua spesa. Ovviamente perché Open Source ha degli altri aspetti prodotti che personalmente reputo più importanti, soprattutto quando si parla poi di prodotti che devono dare dei risultati e applicare questi risultati per uno scopo, che sia una situazione di emergenza piuttosto che una mappa di un vigneto, se andiamo a parlare di agricoltura di precisione. Perciò, il primo aspetto è il controllo su tutta la catena. Cioè, noi, chi è in grado oppure chi non è in grado, facendolo fare a qualche d'uno che è in grado, possiamo andare a prendere il codice di un determinato software, analizzarlo e vedere che cosa sta facendo quel determinato software. Su un software proprietario questo non è possibile, perché non vi viene dato il codice sorgente in 99% dei casi. Ci sono alcune volte che parti di codici vengono anche distribuite. Poi, spalle da giganti, quando ci sono tante persone che lavorano tutte assieme, c'è una saggezza collettiva, cioè ognuno porta a quello che sa meglio, lo mette a disposizione degli altri e così rafforza tutto l'ecosistema. E poi, la trasparenza, ovviamente, la possibilità di leggere il codice porta solitamente a una maggiore qualità e sicurezza. Nel senso che, sempre parlando di OpenDronMap, quando Piero ha iniziato a partecipare al progetto, OpenDronMap era la versione probabilmente 0.9 e qualcosa, e aveva dei limiti. Era prevalentemente uno strumento per obbisti, non portava ancora a un prodotto di alta qualità. Se andiamo a vedere i risultati delle ultime versioni, si può benissimo confrontare con i migliori software proprietari. E poi la sicurezza, la sicurezza che all'interno del codice non ci siano trappole, non ci siano aspetti che non dovrebbero esserci. Per esempio, mandare date a qualche ente di cui non si sa. C'è stato un periodo, mi diceva anche DJI, era stata bandita dall'America perché mandavano dei dati binari verso un server in Cina e non si sapeva che cosa fosse. Allora, in America ha detto, per un po' non vendiamo più DJI sul territorio americano. È passato pochi mesi e quella parte di codice sembra che sia stata rimossa. Allora, come diceva prima Piero, il tutto è nato a fine 2013, era proprio un progetto giusto per divertimento di Steve Matter che aveva un drone e voleva ricostruire le immagini con un suo software. Nel 2014 è stato un po' più organizzato, hanno incominciato a partecipare altri sviluppatori al progetto, fino a che nel 2015 si è incominciato a sviluppare intensamente il progetto. Oltre a OpenDropMap sono nati una serie di tasselli, in alcuni veramente molto coesi con ODM stesso, per esempio pensiamo a WebODM. ODM è uno strumento a linea di comando. WebODM ha portato la possibilità di utilizzare ODM da un'interfaccia grafica, che poi è su web, perciò permette a chiunque di utilizzarlo anche quando non si ha un'installazione sul proprio computer. E negli ultimi anni sono stati fatti dei miglioramenti molto importanti, sia a livello di codice, come vi dicevo le ultime versioni hanno dei risultati veramente eccezionali, sia come funzionalità più di output. Per esempio l'ultima che è stata introdotta, penso che sia quella di presentare un report, scusate, un report di tutto il processamento, di quale sono gli errori nella picture detection, eccetera, eccetera. Ad oggi la comunità è sicuramente molto vasta, possiamo dire che comunque ci sono utenti da tutto il mondo, anche se ancora oggi probabilmente il core degli utenti è in Nord America. Ovviamente il fatto che oggi lo stiamo presentando qua, speriamo che dia possibilità a persone anche da italiane di utilizzarlo con più costanza. Adesso lascio la parola a Piero che ci spiegherà un po' il processo della ricostruzione dei dati da drone. Dai, troverò del mio meglio. Quando la gente usa OpenDrawMap viene un po' lasciata di stupore, perché gli input sono semplici immagini tridimensionali e come risultato ricevi una serie di output che sembrano creati con la magia. Questi sono ortofoto, sono dei modelli di elevazione e sono dei modelli tridimensionali. E c'è un sacco di, ci sono un sacco di processi che ci permettono di arrivare appunto da queste immagini in due dimensioni a dei modelli 3D. Come funziona il tutto? Ad un livello molto alto, che è una panoramica così di alto livello, abbiamo cinque punti fondamentali. Il primo processo viene chiamato structure from motion. Questa è una categoria di algoritmi che dato un insieme di immagini esegue dei processi. Il primo processo è quello di trovare delle immagini che sono simili, quindi che sono state fotografate con una certa distanza tra di loro e che hanno delle features o delle caratteristiche simili. In questo esempio della slide si può vedere due immagini che sono sovrapposte e c'è una distanza tra le due fotocamere. Tracciando le posizioni di queste features o di queste caratteristiche, l'algoritmo è in grado di determinare la posizione della fotocamera che era stata usata per scattare le due foto. Quindi dato l'input set di immagini, lo scopo del structure from motion è quello di fare la computazione della posizione originale che ha fotografato quelle foto. Quindi come output riceviamo delle posizioni delle fotocamere e una sparse point cloud. Questi sono dei punti che corrispondono alla posizione delle features o delle caratteristiche delle foto. Una volta che abbiamo la posizione delle fotocamere e abbiamo le immagini originali, possiamo passare ad un altro algoritmo chiamato multi view stereo, che si occupa di creare una nuvola di punti densa. Questo algoritmo va per tutte le fotocamere, per tutte le immagini e triangola in base alle informazioni ora a disposizione, grazie al structure from motion, una nuvola di punti più densa. Una volta che è la nuvola di punti più densa, possiamo procedere a creare una mesh. La mesh è praticamente un modello 3D pieno dove vengono riempiti i punti, è come connettere i punti tra di loro della point cloud per creare una struttura omogenea, senza spazi o senza vuoti. Una volta che la mesh è stata creata, ci dobbiamo aggiungere dei colori. Qui torniamo indietro alla posizione delle fotocamere e tramite le immagini che sono state scattate le proiettiamo sulla mesh e ci aggiungiamo delle textures. Tramite le textures poi dobbiamo fare alcune operazioni come assicurarci che il bilancio della luminosità sia più o meno simile in tutte le foto, che non ci siano delle ripetizioni dello stesso partner. Ad esempio se hai un'automobile che si muove in più immagini, se non hai questi meccanismi, cominceresti a vedere la stessa automobile che si è mossa tra cinque diverse foto e questo non va bene, quindi ci sono dei meccanismi che controllano per la fotoconsistenza, che rimuovono questi artefatti e poi tutta una serie di altre ottimizzazioni. Come risultato riceviamo un modello 3D che ha i colori. Una volta che hai il modello 3D con i colori, l'ultimo step è veramente semplice. Praticamente creiamo una fotocamera ortografica, che è una fotocamera con distanza illimitata e prendiamo una foto dall'alto. In pratica questo ci genera una ortofoto che può essere utilizzata per fare misuramenti e che non ha degli artefatti di prospettiva. Assieme agli ortofoto generiamo ovviamente anche delle derivazioni, ad esempio dalla point cloud possiamo generare dei modelli di elevazione, possiamo generare un report e tutta una serie di altri input che sono derivati. Però dalle basi veramente gli output più importanti sono l'ortofoto, la point cloud e tutto il resto viene derivato da questi due. Questa è un po' sì la panoramica da alto livello. Ovviamente ogni step ha un sacco di dettagli più aggiuntivi, ma oggi abbiamo un tempo un po' limitato per coprire tutti i dettagli di ognuno. Ok, grazie mille. Allora, vediamo un po' di casi d'uso in cui sappiamo per certo che viene utilizzato OpenDronMap o WebODM anche. Il primo caso è in situazioni di costruzioni. Abbiamo solitamente situazioni dove c'è un drone con una camera standard, perciò un RGB, una cattura di immagini settimanale e ODM viene utilizzato per creare l'ortofoto e il modello 3D. A questo punto qua possiamo calcolare misure lineari, areali e di volumi e utilizzando anche software esterni, per esempio Cloud Compare o probabilmente con l'ultima versione anche QGIS potrebbe essere un software molto utile perché dall'ultima versione della 3D18 supporta anche i point cloud. Si potrebbe fare tutte le analisi e fare differenze, monitorare perciò come stava avanzando la costruzione rispetto ai piani. e una volta che abbiamo fatto tutte le nostre analisi possiamo mandare gli aggiornamenti ai proprietari dei terreni che stanno aspettando i lavori o a tutte le varie parti interessate. Gli scavi, oltre per esempio per le costruzioni, viene utilizzato anche nel caso di scavi da miniera, perciò a cielo aperto il drone vola e si vede quanto viene scavato la terra. L'altro caso che è quello che attualmente interessa prevalentemente sottoscritto è quello legato all'agricoltura. Per l'agricoltura bisogna avere un drone con camera multispetrale o, come nel mio caso, con due camere, una RGB e una multispetrale. Si fanno voli ogni due settimane su larghi campi o anche su cose non troppo estese e poi si possono utilizzare gli algoritmi che WebODM include per monitorare la salute delle piante. WebODM, come vedete qui nella parte destra, ha la possibilità di visualizzare delle mappe di vivoria delle piante con diversi algoritmi. Il più comune è il DVI, ma è possibile applicarne molti altri. A questo punto qui possiamo monitorare visivamente l'andamento del raccolto e anche in modo più o meno automatico vedere come procede l'andamento della stagione. Facendo voli ogni due settimane possiamo calcolare l'indice DVI per ogni volo e poi fare delle differenze, vedere quanto cambia, quanto migliora, se ci sono delle zone più o meno dense e andare ad agire dove necessario. Viene utilizzato anche per gestione di emergenze. In questo caso qua abbiamo un drone con camera standard. quello che ci interessa è mappare in modo rapido la rottura di un'argine piuttosto che un'area inondata e lo scopo è quello di identificare e quantificare le aree di danno. Perciò in questo caso qua si fa il volo e poi tramite il modello 3D prevalentemente si va a misurare quante differenze e quanti volumi sono cambiati rispetto magari a un volo precedente. Ovviamente in caso di emergenza fare tanti voli in poco tempo aiuta molto, specialmente se ci sono casi di frane o inondazioni volare ogni ora o anche meno permette di calcolare in modo rapido la situazione attuale. In base poi ovviamente alla superficie da controllare il calcolo sarà più o meno importante e perciò bisognerà avere delle macchine più o meno performanti. Un altro che utilizza è il monitoraggio delle coste. Il monitoraggio delle coste viene fatto anche questo qua con una camera standard, viene catturata un tratto di costa, con ODM vengono generati i modelli 3D, sia DSM che DTM, viene ripetuto ogni tre mesi o comunque a livello mensile, viene esportato il modello 3D e poi viene utilizzato un altro software, in questo caso per esempio CrowdCompare, per valutare il cambiamento nel corso del tempo. ci sono alcune zone dove le coste si modificano molto velocemente, nel nostro territorio ormai è molto cementato, perciò le coste sono abbastanza stabili, però in altre zone invece non è così. Adesso vediamo come utilizzare ODM. attualmente vengono supportati tutti i principali sistemi operativi, su Windows e su MacOS viene probabilmente solo supportato tramite Docker, Docker è un sistema di contenitori che permette di eseguire una determinata procedura per installare software in modo molto veloce e semplice. Su Linux è possibile installarlo o nativamente, perciò seguire tutta la procedura di installazione, oppure anche in questo caso qua utilizzare Docker. L'utilizzo di Docker semplifica molto tutta la parte di installazione, perché con un comando prevalentemente si può scaricare e avviare tutto l'ecosistema di OpenDropMap. Riguardo Docker, per OpenDropMap ci sono diversi contenitori, quello più utilizzato è quello di WebODM, che ha integrato anche tutti gli altri componenti, perciò ha integrato ODM da linea di comando, più la possibilità di creare dei nodi con NodeODM. E qua vi ho già accennato alcuni componenti. Allora, come dicevamo, tutto è nato dal ODM command line, perciò da uno strumento che si eseguiva da linea di comando. Perché? Perché fare un'interfaccia grafica comunque complica un po' lo sviluppo, nel senso creare un comando, una linea di comando è abbastanza semplice, creare un'interfaccia grafica è più complesso, bisogna, ci sono più elementi in gioco, e perciò è abbastanza comune incominciare dalla linea di comando per poi sviluppare un'interfaccia grafica su di esso. Come vi dicevo, l'interfaccia grafica di ODM si chiama WebODM, abbiamo due versioni, WebODM standard, è possibile installarlo in modo gratuito, tramite Docker, per esempio, oppure esistono degli installer a pagamento che potete trovare sul sito di WebODM. Poi abbiamo WebODM Lighting, che è una versione di WebODM per Windows, che, come dice il nome Lighting, è più leggera, nel senso che è soltanto un'interfaccia grafica, ma non ha la possibilità di svolgere calcoli. Per svolgere calcoli si deve collegare a un Lighting server, e i Lighting server sono a pagamento. Attualmente viene fornito un servizio da Piero, come vi avevamo scritto sulla mail, se non avevate possibilità di installare WebODM sulla vostra macchina, potevate registrarvi al servizio WebODM.net, e in automatico vi venivano forniti 150 crediti per fare dei test, e una parte di questi, nel caso, li utilizzerete oggi. Bene, questi qua sono i due componenti, diciamo, principali di OpenDropMap, ma non sono gli unici, nel senso che tra WebODM e la command line c'è di mezzo una API che si chiama NodeODM e il NodeODM permette di mettere in relazione WebODM o un altro client ODM con un ODM da linea di comando. È un livello di astrazione che permette di semplificare la chiamata verso ODM. APIODM è una libreria Python che vi permette di eseguire tutto il processamento tramite Python e perciò di collegarvi a un nodo di ODM e poi caricare le immagini ed eseguire i vostri calcoli. CloudODM e cluster ODM sono due componenti invece più legati al cloud computing e permettono di, cloudODM, di lanciare dei comandi su un nodo ODM sul cloud. Cluster ODM invece vi permette di creare una rete di nodi ODM all'interno di una vostra macchina HPC. Esiste poi LiveODM che è un prodotto a pagamento dove viene fornito ODM con la WebODM su un dispositivo USB o DVD. Infine WebODM è presente anche all'interno di Portable OpenStreamUp che è un sistema che può girare su una chiavetta USB dove sono presenti diversi servizi legati a OpenStreamUp e all'interno hanno installato anche WebODM. Piero non so se vuoi aggiungere qualcosa o sono stato impreciso su qualche componente. No, direi che hai tutte le basi coperte. Ok. Esiste ancora una libreria che non ho aggiunto che è una libreria in R che permette di fare un po' di analisi di vegetazione utilizzando gli output di ODM. Non l'ho inserita perché non mi sembra più completamente collegata con ODM però sappiate che se andate sul sito di OpenDroadMap potete trovare anche questa libreria R che vi aiuta per fare analisi di vegetazione. Vediamo un pochettino come è composto WebODM che è lo strumento che andremo a utilizzare oggi. Quando vi collegate vi apre una dashboard dove se è la prima volta che accedete avrete soltanto il menu qua a sinistra mentre nella parte centrale sarà bianca e ci sarà il pulsante per creare un nuovo progetto. WebODM o comunque ODM funziona a progetti nel senso c'è un progetto dove potete inserire diversi task e ogni task è un set di immagini che vengono processate. Al di sotto della dashboard abbiamo un sistema di un'interfaccia per inserire i ground control point perciò i punti di verità a terra in WebODM c'è un'interfaccia già installata che è molto comoda vi permette di caricare le immagini e poi di andare a selezionare dei punti utilizzando una mappa dinamica bandata su OpenStreamMap e di caricare e perciò di andare a selezionare i punti precisi. Nel caso voi aveste dei rilievi e per esempio siete in una zona boschiva o siete in una zona di campagna dove non avete punti di riferimento ma avete soltanto le vostre verità a terra prese magari con un GPS per di più magari ad altra risoluzione potete crearvi un file tipo quello sotto ad esempio dove mettete nella prima riga un file il sistema di coordinate espresso in la descrizione di Proj4 adesso dominato Proj mettete le vostre coordinate x e y e poi un numero o una lettera o un nome per definire la label di quel determinato punto a quel punto lì se voi caricate il file con le vostre verità a terra potrete in automatico il software vi metterà i punti sulla mappa e a quel punto lì dovrete solo associare il il punto di verità a terra con la verità a terra presente su un'immagine lo strumento su WebODM è molto comodo anche se devo dire che avendo provato questo WebODM Crown Control Port Editor che è un prodotto che potete trovare su GitHub della ditta di Piero è un no questo qui è ancora quello direi quello online vedete qua avete le vostre verità a terra e potete selezionare il punto mentre questo qui è il Gun Control Pro Editor Pro è un'applicazione Angular perciò basata su JavaScript potete installarla in modo abbastanza semplice sul vostro computer vi richiede di caricare un CSV con le coordinate e la coordinata all'altezza è una label e dopodiché per ogni nodo andate a caricare le sole immagini di quel determinato di quella determinata verità a terra mi sembra come soluzione un pochettino più veloce di quella integrata all'interno di WebODM per farvi un piccolo esempio ho processato ho comunque messo verità a terra di questo volo qua erano 5 punti 5 punti di verità a terra con 120 immagini ovviamente non tutte avevano delle verità a terra ma su 120 più o meno 90 o comunque giù di di avevano delle verità a terra e ci ho messo un'oretta bisogna bisogna dedicare un po' di tempo soprattutto se non avete immagini con già le coordinate gps al loro interno questa qui è la soluzione probabilmente più veloce per impostare e andare a creare poi un file che verrà dato in pasto a OpenDropMap con il modello che vedete questa slide qua che è un gcp il file si deve chiamare gcp underscore list punto txt per essere compresa da OpenDropMap e il formato è più o meno simile a quello che vi dicevo prima perciò in alto una linea di definizione del sistema di coordinate poi una colonna con le x una colonna con le y la label del punto no scusate l'altezza l'altitudine e poi i pixel x e y dell'immagine per dire questo qua è il punto dove c'è la verità terra abbiamo una volta che carichiamo le nostre immagini e andiamo per iniziare il processamento già delle impostazioni preconfigurate sono configurazioni che sono state testate e pensate dagli sviluppatori in base a quello che andrete a calcolare potete selezionare una delle impostazioni preconfigurate ovviamente potete selezionare una di queste di queste parametri già preconfigurati e poi andarla a modificare con edit oppure potete incominciare con una custom e definirvela per voi andando a selezionare tutti i parametri considerate che i parametri da selezionare sono tanti in base a quello che di cui avete necessità ci sono molti parametri da configurare una volta lanciato il processo vedrete che c'è una barra che calcola che calcola quanto sta procedendo e col tempo e poi sotto avete anche un log che va abilitato e vi fa vedere a che step è come sta andando avanti la procedura una volta che il processo è finito vi escono sotto al vostro task una serie di pulsanti che vi permettono di fare determinate cose da visualizzare i risultati perciò visualizzare la mappa 2D o visualizzare il modello 3D è possibile scaricare i dati è possibile eliminare il task ed è possibile secondo me questo è uno degli aspetti più interessanti ricominciare il processamento ma ricominciare il processamento allo step che voi desiderate nel senso che come abbiamo visto Piero ha parlato di 5 step fondamentali all'interno qua quando farete il restart è possibile sceglierne qualche uno di più per esempio mettiamo casa abbiamo fatto tutto il nostro processamento abbiamo scelto che la risoluzione deve essere due centimetri due centimetri poi andiamo a vedere i dati e ci accorgiamo che ci sono un po' di artefatti nel senso che magari avete fatto un volo non una buona un buon overlap oppure c'era vento perciò il drone ballava un po' di più ci sono variati motivi per cui magari non è il risultato ottimale allora volete provare a vedere se aumentando un po' riducendo un po' la risoluzione perciò passando a per esempio 3 centimetri di risoluzione le cose possono un pochettino migliorare a quel punto lì dovete ricominciare non dal primo step che è quello dello structure for motion che probabilmente è una delle attività che richiede un più tempo ma potete partire da per esempio la ricostruzione del dtm perché volete modificare anche il dtm non solo l'ortofoto passare da 2 centimetri a 3 centimetri perciò ricominciate dalla costruzione del dtm e poi sulla ricostruzione del dtm si verrà spalmata tutte le immagini con i colori e infine verrà ricostruito l'ortofoto questo vi permette di risparmiare molto tempo e in alcuni casi è veramente molto utile quando ci sono grandi set di dati è utile avere un cluster odm a disposizione questo abbiamo già visto è un servizio che è in grado di parlare con web odm o con anche con lo stesso odm e dividere il vostro set di dati in tanti diversi server questo permette di velocizzare molto i calcoli ovviamente se stiamo parlando di per esempio un servizio a pagamento come quello di Piero ogni server avrà un costo assistante però probabilmente il tempo che impiegherete a fare i calcoli sarà di meno e perciò andrete a compensare i maggiori costi sul per il numero di server con il minor tempo di esecuzione ok adesso vediamo un po' come lavorare su web odm allora vediamo un attimo allora innanzitutto come vi dicevamo potete utilizzare anche dei vostri dati e io utilizzerò un set di dati che è scaricabile continuate a vedere il mio il sito adesso sì sì si vede ok questo qui è un set di dati che viene condiviso dal dal sito di open drum map e oggi personalmente utilizzerò brighton beach perché è un set molto piccolo perciò permette di calcolare in modo veloce i risultati è carino meglio che una banana perciò dal link vi apre la pagina di github e scarichiamo lo zip sono 60 mega perciò non dovrebbe metterci troppo ovviamente se avete dei vostri dataset che volete condividere è possibile farlo se dovrebbe bastare fare una pull request su github giusto piero sì assolutamente e siamo sempre ansiosi di ricevere più dati che per fare processamenti perciò adesso i dati dovrebbero scaricati no ancora un attimo solo non trovo dove la scaricati li provo ok ok adesso lo decomprimo a questo punto qua posso passare su web odm scusate un attimo devo cambiare browser di condivisione perché questo qua non ha password salvata un attimo e condivido questo qua ok adesso dovreste vedere web odm giusto sì ok questa qui è l'interfaccia grafica che vi ho fatto vedere prima la dashboard si presenta così con i progetti se non avete il progetto è vuoto c'è c'è l'interfaccia di punti di verità terra un'interfaccia lighted network perciò per chi ha installato web odm su una propria macchina e si vuole collegare al network lighting deve mettere l'utente la password qua c'è un'interfaccia di diagnostica molto semplice cioè i due aspetti probabilmente più importanti che riguardano il processamento avere spazio sul sul disco e avere memoria qua è possibile selezionare i nodi di default se installate web odm da docker lui in automatico crea un nodo utilizzando un contenitore dove c'è il nodo odm è possibile crearne più di uno in base al numero di processori di ram che avete a disposizione come è scritto sul documentazione almeno per avere dei buoni processamenti si parla di 16 giga di ram sotto i 16 giga si possono si possono calcolare ma data set veramente piccoli e poi c'è un po' di di amministrazione se ci fossero degli utenti è possibile modificare il tema aggiungere i plug-in alcuni sono abilitati di default altri invece sono disabilitati si possono si possono abilitare allora vediamo la procedura incominciamo la procedura poi lanciamo l'esecuzione del processamento e ritorniamo alla presentazione pratica cioè teorica scusate allora io creo un nuovo progetto lo chiamo gfos geam metto una descrizione per ricordarmi e creo il progetto alla fine la creazione del progetto è giusto aggiungere un pannello a questo alla dashboard a questo punto qua lui mi chiede di creare o caricare delle immagini e se necessario il ground control point nel nostro caso non sarà necessario perché almeno per il dataset che ho selezionato per show brighton le immagini hanno già al loro interno le coordinate nell'exif a questo punto qua seleziono tutte le immagini e lui in automatico mi crea mi apre questa finestra dove devo selezionare alcuni parametri devo inserire un nome lui in automatico prende brighton beach road e la data probabilmente lo prende dall'exif delle immagini potrei selezionare se ne avessi più di uno quale nodo utilizzare per esempio in questo caso qua potrei avere o il mio nodo installato sulla mia macchina oppure nel caso avessi tante immagini che la mia macchina non è in grado selezionare un nodo del servizio lightning perciò io metto auto in questo caso qua selezionerò dsm più dtm o sì diciamo dsm più dtm e gli dico anche di ridimensionare le immagini questo è utile per velocizzare il processamento per esempio con alcuni casi che ho provato sulle mie foto qua sotto non ridimensionando le immagini ci mette sono immagini da circa 4000 pixel per 3000 e qualcosa non ridimensionando ci metteva quasi 3 ore a fare il processamento ridimensionando le a 2000 per 2048 si dimezzava diventava un'ora e 20 una cosa del genere poi dipende anche da alcuni parametri adesso vi faccio vedere qua i parametri che sono stati selezionati scegliendo per esempio vedete qua è stato scelto di fare il DSM e il DTM e poi penso che non ci sia nessun altro parametro scelto ovviamente se lasciamo così com'è prendiamo i parametri che ci vengono dati però potremmo decidere di cambiare la risoluzione del DTM invece che fare 5 cm per pixel farlo 6 6.0 e a questo punto qua noi abbiamo una delle opzioni custom che potremmo anche salvare e perciò a quel punto lì ce lo ritroviamo negli altri negli altri task o anche negli altri progetti per esempio io mi sono creato questo LD slash default che è un default che utilizzo per le mie immagini a questo punto qua mi dice di fare una review perciò nella review quello che ci dice è il nome strumento le opzioni scelte perciò abbiamo scelto di fare un DTM risoluzione 6 metri dove vediamo sia il modello della superficie sia il modello dell'elevazione e infine ricampioniamo l'immagine a 2048 pixel a questo punto qua posso dirgli di iniziare il processo la prima cosa che fa è caricare le immagini e poi incomincia a fare l'analisi se mettiamo qui possiamo vedere in teoria quando comincia a fare l'esecuzione l'analisi viene fuori un log ecco qua incomincia il log e scrive tutti i vari step che sta svolgendo ok a questo punto qua direi che posso continuare la parte teorica eravamo arrivati alla configurazione l'abbiamo visto inizia il processo ok siamo direi qui siamo a questo punto qua abbiamo lanciato l'esecuzione e adesso farà tutti quegli step che Piero ci ha parlato prima perciò la structure for motion la densificazione della nuvola di punti il mesh l'applicazione dei colori sopra il mesh e infine ortofoto dtm e tutte le cose gli output che abbiamo richiesto ok vediamo un po' gli output che abbiamo a disposizione una volta completato il nostro il nostro processamento abbiamo i vari bottoni qua sotto in primis possiamo vedere delle ortofoto perciò vedere le mappe in 2D le mappe in 2D ci permettono di visualizzare l'output della mappa solitamente sono in RGB ma non è detto perché dipende dalla camera nel mio caso io come vi dicevo ho una camera RGB e poi ho una camera che invece fa soltanto il near e l'infrared perciò ovviamente fa la ricostruzione correttamente odm però le immagini che visualizzo su questa parte del client non sono in RGB perciò con i colori naturali ma sono dei falsi colori la mappa viene caricata sopra una base map si può scegliere tra diverse tra google map o pre stream map foto satellitari di google in modo da fare dei paragoni con i dati esistenti per vedere se è stata già riferita bene eccetera è possibile è possibile fare delle misure lineari areali volumetriche ovviamente le volumetriche si basano poi sul modello digitale ed è possibile calcolare delle isoline perciò delle curve di livello e come vedete in questo caso qua viene fatto ogni 05 ogni 50 cm viene fatta una curva di livello ovviamente bisogna avere degli output di una buona qualità nel senso che è possibile selezionare di effettuare le curve di livello sia sul dsm che sul di atm sul dsm non avrebbe molto senso perché come sapete riporta la superficie perciò tutti gli elementi e se fate intervalli di 5 metri se prende un albero sicuramente vi crea diverse isoline dall'altra parte la creazione del tm solitamente ha dei buoni risultati in alcuni casi per esempio nelle mie situazioni situazioni di montagna dove il terreno è pendente si hanno delle complessità maggiori i parametri di default non funzionano perfettamente perciò anche il dtm non è perfetto si può sicuramente migliorare sto cercando di capire quali sono i parametri più corretti da utilizzare poi oltre all'ortofoto è possibile vedere la salute delle piante ne abbiamo già parlato prima è un layer che si basa su alcuni algoritmi pubblicati scientifiche perciò ben conosciuti utilizzati ovviamente lo stato delle piante ha senso se questi dati provengono da camere multispettrali poiché penso che quasi tutti se non tutti gli algoritmi richiedono di avere la banda dell'infrarosso vicino e perciò senza quella banda lì non la salute delle piante non si riesce a calcolare in modo efficace in questo caso qua parla di alcune 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 marche MicalSense Sentera che sono diverse e ovviamente potete scegliere i vari algoritmi potete scegliere anche come filtrare le immagini con che ordinamento utilizzarlo e poi è possibile esportare un geotiff l'altra cosa molto utile che ho adottato per quanto riguarda le mie camere che probabilmente non sono le migliori camere in commercio rispondono cioè il risultato è buono però il la il range dei valori è molto ridotto per esempio le NDVI i parametri vanno da meno uno a più uno e nel mio caso molto spesso si va da meno 05 a più 04 per avere un dei colori un pochettino più apprezzabili si può ridurre il range e così distorge non distorge adesso mi viene in inglese non mi viene la parola in italiano comunque applica la scala di colori soltanto su quel range lì e potete notare con più più facilità le differenze è possibile visualizzare il modello della superficie come vedete ma questo qua è una cosa abbastanza comune in tutti i software la ricostruzione è molto affidabile nelle parti centrali dell'area nelle zone più esterne la ricostruzione perde di affidabilità perché ci sono troppo poche immagini che permettono una ricostruzione corretta perciò il DSM rispecchia tutte le superfici possiamo vedere qua le macchine e gli alberi e poi invece c'è il DTM in questo caso qua possiamo notare che ci sono sì delle differenze per esempio questa macchina qua è completamente sparita o quasi non si vede quasi più rimangono degli artefatti perché come vi dicevo prima bisogna giocare un po' sui parametri su alcuni parametri quelli default funzionano abbastanza bene però se si vogliono ottenere dei risultati di più alta qualità un minimo con i parametri bisogna andare a giocare ecco questa qua è una classica immagine dove probabilmente si è lavorato abbastanza bene con i parametri necessari e da un DSM si è passato un ottimo DTM tutte le varie questo edificio e anche questi edifici qua vengono collassati e riportati a livello del terreno dopo i modelli 3D abbiamo la possibilità di visualizzare dei modelli 3D i modelli 3D sono nuvole di punti perciò sono punti individuali con le tre coordinate x y e z è possibile vedere oltre che il modello 3D la classica nuvola di punti è possibile vedere anche la superficie la mesh si può andare sul lo vedremo poi negli esercizi ci sono si va sulla nuvola di punti si seleziona superficie mesh a quel punto lì invece che avere la nuvola di punti vengono mostrate tutte le superfici che vengono calcolate durante il processamento è possibile effettuare dei calcoli perciò delle misurazioni anche in questo caso lineare areale angoli altezze profili e volumi e poi l'ultimo aspetto è quello dello scaricamento lo scaricamento permette di scaricare gli elementi che sono stati scelti durante il durante la selezione dei parametri nel caso nostro abbiamo selezionato di creare il dtm e dsm perciò avremo la possibilità di scaricare il modello del terreno e delle superficie probabilmente sarà possibile scaricare anche il laz e l'obj per esempio il laz non sarà possibile scaricarlo perché non abbiamo selezionato quell'opzione lì è possibile scaricare i parametri della camera e come vi dicevo un report di qualità di tutto il processamento dove ci sono alcuni parametri utili nel caso dobbiate far vedere a qualche eduno le caratteristiche ritornando un attimo indietro volevo dirvi che i software che stanno dietro per esempio al modello alla visualizzazione del modello 2D e il modello 3D non sono software che Piero ha scritto da capo sono software già esistenti che lui ha integrato all'interno del suo modello per quanto riguarda la parte 2D direi che dovrebbe essere lì flat giusto Piero sì esatto il software che visualizza la mappa 2D è lì flat mentre il software che visualizza la nuvola di punti è potri due software molto conosciuti per le loro prestazioni e sono dei leader nel mondo open source perfetto e perciò qua vedete questa interfaccia qua è quello che potete ottenere anche installandovi voi potri e caricando la nuvola di punti ovviamente averlo integrato in un software unico aiuta un po' tutti aiuta sia potri perché viene utilizzato da tutti coloro che utilizzano web odm ma dalla stessa parte a web odm è venuto molto utile utilizzare un software che fa già quella cosa lì senza doverlo descrivere da capo e questo è probabilmente uno degli aspetti più belli e importanti del software libero nel senso di poter prendere e riutilizzare quello che c'è già senza dover ogni volta reinventarsi tutto da capo ok adesso parliamo un pochettino di qualità dell'output allora due giorni fa mi sono sentito con Piero per preparare la presentazione e gli ho detto guarda su UAV Arena ho visto sì i risultati sono buoni però c'è ancora qualcosa e ho detto eh sì ma perché non l'ho fatto con l'ultimissima versione secondo me se lo faccio con l'ultimissima versione i risultati sono ancora meglio di alcuni software e nel giro di due ore ma ho tirato fuori i dati con l'ultima con l'ultima versione e sono veramente impressionanti adesso poi vi vorrei far vedere vi farò vedere un po' i risultati anche tra le tre diverse opzioni che abbiamo di di OpenDraw Map nel corso del tempo ed è veramente impressionante i miglioramenti che sono stati fatti e perciò abbiamo ormai dei risultati comparabili e in alcuni casi anche migliori di proprietari ovviamente ci sono ovviamente alcune complessità un pochettino in più perché la qualità può essere fatta bene sia già con parametri configurati non sempre e poi soprattutto dipende da una buona copertura che è fatta dal volo leggendo un po' in giro mi sembra che parlassero almeno di un minimo del 65% di overlap ma consigliato per avere dei risultati di alta qualità un 80% e ovviamente questi qua sono consigli bisognava avere anche i tempi per svolgere delle sovrapposizioni così certe volte si ha un slot di tempo ridotto perciò per velocizzare il volo si sceglie di fare un po' meno overlap però certe volte questo qua poi comporta dei risultati peggiori sull'output finale perciò i prodotti di alta qualità con parametri preconfigurati certe volte solitamente funziona abbastanza bene certe volte però come nel mio caso bisogna andare a lavorare con parametri con i parametri e andare a fare dei test alcuni parametri sono complessi anche per gente esperta e perciò si faranno diverse prove come vi dicevo prima il restart a un determinato punto aiuta molto perché se dobbiamo cambiare solitanto i parametri per ricostruire l'ortofoto o il dtm non devo rifare tutto quello che ho fatto prima che rimarrebbe uguale e questo qua ci permette di avere delle tempistiche molto ridotte e come dicevo prima la copertura del vuolo 65 minimo ottimale 80 adesso vi faccio vedere un minimo un po' di risultati soprattutto ce n'è uno che mi fa veramente impazzire questo qui l'abbiamo già visto prima vedete sulla parte sinistra della mappa abbiamo drone deploy e a destra abbiamo l'ultima versione di odm la 2.4.7 potete notare che non ci sono grosse distorsioni un minimino qua sulla casa c'è se vedete questo punto qui ci sono un pochettino di parametri diversi però se vedete anche qua drone deploy non renderizza perfettamente adesso faccio magari uno zoom per vedete qua che c'è ci sono ancora quello prima però questo è il risultato di open drone map questo qui è drone deploy e un minimo di artefatti c'è anche qua se prendiamo pix4d mi ricordo che c'erano direi che la versione 4.4.10 di pix4d era nettamente inferiore a quella di odm l'ultima però quella che mi piace di più è sandkey quella qui è un'immagine di una spiaggia dove ci sono alcuni elementi che secondo me sono complessi tipo la macchina tipo questi tavolini qua con il con l'ombreggiatura e vorrei prima di tutto farvi vedere quello che faceva open drone map 0.99 cioè qua ci sono probabilmente qua un metro di differenza di errore proprio parliamo di due cose quasi completamente diverse passiamo poi a 2.11 che ortoretifica correttamente perciò mette nella posizione giusta ma c'è ancora un bel po' di artefatti rispetto alla 247 che è direi perfetta anche i tavoli hanno diversi artefatti e se andiamo a paragonare con altri software proprietari potete vedere che il risultato è completamente anzi i tavoli secondo me sono fatti anche meglio rispetto a quello che fa PX4D e invece drone deploy era proprio direi quasi identico mi ricordo sì non c'è quasi nessuna differenza perciò con questo qua possiamo dimostrare che il risultato delle ultime versioni di open drone map è completamente paragonabile con i software proprietari ritorniamo qua quali sono le insidie di open drone map ovviamente per adesso abbiamo parlato di cose bellissime però ci sono alcuni aspetti un po' negativi che però non sono neanche negativi alcuni sono comuni ci sono tante vie come abbiamo visto utilizzare open drone map lo possiamo fare in tanti modi probabilmente il primo step per un neofita dovrebbe essere quello di utilizzare web ODM perché? perché vi permette di fare tutto quello che ODM permette da interfaccia grafica in alcuni casi semplificando il processamento in prevalenza la configurazione del comando che verrà lanciato quando vi ho fatto vedere tutti quei parametri che si poteva selezionare o meno quelle lì sono opzioni che vengono passate a open drone map e vengono poi lette dal software che fa il processamento perciò se dobbiamo decidere da dove incominciare io vi consiglierei da web ODM poi magari c'è tra di voi lo smanettone che conosce benissimo Python non gli piace l'interfaccia grafica e vuole incominciare con PyODM è liberissimo di farlo o invece chi è abituato a utilizzare la linea di comando può utilizzare benissimo open drone map la linea di comando ovviamente richiede un po' di lavoro come tutte le cose quando è una cosa nuova è bene studiare un minimino e cercare di di capire come funziona quali sono le funzionalità e quali sono i limiti e questo fatto prima vi aiuta poi a non doverlo fare dopo quando magari avrete dei problemi un altro problema comune è iniziare con grandi dataset cioè noi facciamo il volo del non lo so di un parco qualche ettero di parco e vogliamo incominciare a utilizzare quello magari sono 500 foto probabilmente vi conviene cominciare con qualcosa di più piccolo 50 100 foto io ho se ricordo bene quando avevo cominciato avevo cominciato con un centinaio di foto e avevo avuto diversi problemi un po' perché non conoscevo il software avevo studiato relativamente poco non c'era un'interfaccia grafica all'epoca era solo da linea di comando perciò dovevo selezionare i parametri impostare i valori corretti eccetera però con un centinaio di foto dopo un po' di tempo sono riuscito ad avere risultati più che soddisfacenti altri problemi sono le risorse del sistema in primis le specifiche hardware come diceva come ho detto precedentemente minimo minimo si parla di 8 giga ma con 8 giga non farete quasi nulla io ho controllato un po' il mio processamento con 105 e con 150 immagini comunque arriva a utilizzare un 12 giga di ram minimo più o meno comunque la occupa tutta dipende anche poi da che risoluzione volete gli output perciò se rimanete sui 3-4 cm sarà richiederà più o meno quella determinata ram se scendete volete mezzo centimetro di risoluzione dovete aumentare la ram senza un progliglio 16 giga non vi possono bastare neanche per 100 immagini per quanto riguarda windows e forse anche mac bisogna controllare quello che docker allocca cioè quante risorse può utilizzare docker su linux non sembra necessario perché come ho visto usa tutta la ram sulla mia macchina perciò non ho grossi problemi altra altro problema che può essere un po' desmotivante è che in alcuni casi non si capisce se il processo sta andando avanti oppure no nel senso che ci sono alcuni step della procedura che richiedono molto tempo e non danno nessun output di vitalità o meno mi è capitato giusto con le immagini negli ultimi giorni che fatto tutto il processamento rimaneva bloccato sulla creazione del report non con Piero abbiamo capito probabilmente qual è il problema ma non non siamo sicuri è bastato fare non facevo non facevo il ricambionamento delle immagini perciò le tenevo alla loro dimensione standard è bastato fare la risemplificazione delle immagini a 2048 pixel e il processo è andato a buon fine senza nessun problema ovviamente cercherò di fornire a Piero le immagini e le impostazioni che ho fatto per cercare di replicare l'errore e probabilmente anche di risolverlo ecco quello qui è il caldo in cui mi mi sono trovato io l'elaborazione è fialita ma non sono sicuro del perché quello qui è la situazione però facendo alcune prove sono riuscito ad arrivare a fine elaborazione con dei risultati più che ottimali l'altro aspetto che secondo me ormai si potrebbe benissimo tirare via visto i risultati e i paragoni che la qualità dell'output non rispetta le mie aspettative io avevo delle aspettative più alte e la qualità dell'output è più bassa visto i risultati con quelle immagini che vi ho fatto vedere prima ma vi farò vedere anche i dati che ho analizzato io non mi posso di certo lamentare perché la qualità è veramente elevata questo si poteva probabilmente dire con qualche versione precedente perciò se ad oggi la qualità dell'output non è buona quanto vi aspettate probabilmente c'è qualche qualche problema nella vostra procedura che sia la procedura di volo piuttosto che la procedura di creazione dei dati potrebbe essere se prendete per esempio le verità terra con con gli editor che vi ho fatto vedere potrebbe essere che avete preso male una verità terra cioè non l'avete centrata perfettamente una o più di una o parametri non abbastanza buoni per esempio avete messo che volete un output a 4 cm ma l'altitudine a cui avete volato e l'overlap che avete fatto non ve lo permette proprio matematicamente non è possibile arrivare a quella risoluzione lì perciò in alcuni casi basta ridurre un po' la risoluzione perciò passare dai 2 cm ai 4 cm e in questo modo qua potete benissimo avere dei risultati migliori direzione future magari qua poi chiediamo un po' a Piero se c'è qualche novità su questi aspetti qua perciò il supporto alla GPU per velocizzare i calcoli miglioramento nella velocità di elaborazione anche se direi che sono stati già fatti dei buoni passi avanti mi ricordo che le stesse immagini che vi farò vedere dopo le avevo processate con versioni precedenti ed era oltre che risultati qualitativamente inferiori anche più lungo il processamento ma questo aspetto qua è utile se la velocità di elaborazione aumenta ma la qualità dei dati ovviamente rimane identica supporto alle immagini termiche questo qui sarebbe veramente una cosa utilissima e poi immagini suonitari da camera a terra e a 360 gradi Piero ci puoi dire qualcosa di più su queste funzionalità sì assolutamente è forte che abbiamo una nota sul supporto GPU e per le immagini termiche in questa slide perché l'abbiamo rilasciato giusto tre giorni fa per l'ultima versione abbiamo un iniziale supporto per utilizzare la GPU per velocizzare alcune parti del processamento e abbiamo anche un supporto iniziale per processare immagini termiche siamo al punto di dover aggiungere supporto per più sensori al momento abbiamo testato questo supporto solo con due o tre sensori ma il supporto c'è quindi man mano che ci arrivano più dataset più richieste dagli utenti avremo sicuramente l'opportunità di espandere il supporto per più sensori quindi supporto a GPU c'è supporto immagini termiche c'è sulla velocità di elaborazione è un probabilmente non finiremo mai di ottimizzare la velocità è un obiettivo a lungo termine che siamo sempre è sempre sul nostro radar ma sicuramente così che andiamo avanti il processamento diventa più e più veloce e sulle immagini supplementari da terra 360 quello e anche abbiamo abbiamo supporto per diversi per scegliere diversi modelli di fotocamere per fare il processamento mi pare se ricordo bene che abbiamo uno per processare immagini panoramiche però così sul punto non mi ricordo esattamente comunque è anche uno di quelli degli obiettivi che abbiamo ma ti chiedo una cosa che non l'ho aggiunto perché non è una funzionalità in arrivo una volta c'era già anche se era molto complesso e video il video è anche un'altra feature che abbiamo nella roadmap e più una feature di media priorità abbiamo ricevuto molte richieste due o tre anni fa avevamo un modulo Slam che ci permetteva di usare un sistema ibrido per compiutare la posizione delle fotocamere utilizzando un sistema diverso da structure from motion da video ma quel modulo è stato deprecato perché non c'era sufficientemente supporto e lo sviluppatore originale aveva trovato altri impegni quindi è stato temporaneamente rimosso e ogni tanto riceviamo la richiesta per aggiungere il supporto ed è sicuramente qualcosa che stiamo cercando di di portare in vita di nuovo però senza sì non riceviamo troppo interesse per questa feature pensiamo che la causa principale sia il fatto che il video comunque da una risoluzione di immagini minore di quella delle foto e ha delle dimensioni molto più elevate quindi la combinazione di dimensioni elevate più qualità inferiore la rende una soluzione meno meno ideale delle foto per le scopi di fotogrammetria di fare rilievi detto questo il video ha il gran vantaggio che ha delle una caratteristica che tutti i frame tutte le immagini sono molto sovrapposte il che potrebbe permettere di creare ricostruzioni in quasi tempo reale simile a come fa drone deploy con la loro live map però vedi i risultati di live map che drone deploy offre e il la critica sempre più evidente è che i risultati di qualità non sono così buoni come quelli delle foto e quindi può essere una funzionalità utile per avere dei risultati veloci ad esempio in situazioni di emergenza dove i dati devono arrivare più velocemente possibili anche se sono un po' così imperfetti almeno sia qualcosa a disposizione in maniera veloce però appunto il problema rimane che la qualità è inferiore ma scusa un attimo perciò sull'ultima versione stabile o all'interno del supporto gpu e immagini termiche in via di sviluppo ancora no no è già disponibile su docker hub per utilizzare la gpu devi utilizzare una immagine docker diversa devi usare l'open drone map barra odm due punti gpu quindi abbiamo due immagini adesso una con un supporto per solo cpu e un'altra che abilita il supporto per la gpu sui ritmi di open drone ci sono le istruzioni è abbastanza semplice bene allora vediamo un po' un piccolo riassunto poi direi che facciamo una pausa di quattro d'ora venti minuti e poi cominciamo con la parte più pratica allora perciò odm è un insieme di strumenti per fare mappatura 2 e 3d con modelli 3d come abbiamo visto oggi ho riferiti sia le mappature 2d che i modelli 3d è software libero open source perciò abbiamo dei benefitting costi e controllo ovviamente come dicevamo prima il controllo non è che lo fa l'utente finale perché probabilmente non ha le competenze per farlo però se uno ha necessità di controllare è possibile fare e poi per gli usi viene utilizzato un po' in tutti i vari campi perciò valutazione monitoraggio risposta a disastri costruzione agricoltura e creazione di mappe abbiamo output come 2d e 3d abbiamo visto gli ortofoti modelli di terreno e della superficie stato del saluto delle piante per i 3d abbiamo le nuve di punti poi le testiture mesh è leggermente più complesso da iniziare ma con l'interfaccia web probabilmente non è così più vera la cosa ovviamente essendo un insieme di strumenti diversi potrebbe essere un pochettino più complesso però utilizzando docker e web dm penso che chiunque sia in grado di incominciare anche in modo più o meno senza grosse difficoltà ed autodidatta e la qualità dell'output come abbiamo visto è paragonabile benissimo ai software più etari più citati poi se volete ovviamente conoscere un po' di più c'è un'ottima documentazione che si trova su docs.opend www.opendrom.org dove ci sono un po' tutte le informazioni principali da come può fare il ground control point a consigli di volo a come è stato al supporto al cambio multispettrali eccetera esiste un libro che è stato scritto da Piero che è veramente molto utile io l'avevo preso ancora quando era in via di scrittura e ci sono informazioni molto utile perciò per chi ha bisogno di fare un utilizzo professionale e intensivo di open roadmap penso che sia sicuramente un acquisto da fare considerate che all'interno vengono spiegati in modo molto accurato tutti i parametri che si possono utilizzare e questo in alcuni casi semplifica un po' la vita l'abbiamo già visto UAV Arena potete se dovete andare dal vostro capo e pubblicizzare OpenDromeMap potete aprire questa pagina qua vi fate vedere i risultati tra OpenDromeMap e gli altri competitor gli dite che risparmiate qualche migliaia di euro di licenza e magari ne investite 500 su OpenDromeMap avete già risparmiato dei soldi e avete fatto un'opera buona per il progetto c'è un forum molto utilizzato e vivo dove potete chiedere informazioni e qualche di uno vi risponde e a questo punto qua bisogna ringraziare Piero che è uno dei creatori di materiale della presentazione Stefan Matter che anche esso ha dato di suddarsi immagini ma soprattutto Corey Snips perché la presentazione più o meno è la sua che aveva tenuto l'anno scorso io l'ho tradotta volevo rifarla da capo ma poi quando ho visto la presentazione che era fatta molto bene copriva tutti gli aspetti ho detto possiamo venire utilizzare questa e Corey è stato informato del fatto e era molto contento la licenza della presentazione è la Creative Common Share Alike e se ci sono domande direi che possiamo fare un po' di domande adesso Luca dunque Piero mentre parlavi ha risposto praticamente a tutte le domande in chat piccola nota mi sembra che dal dal tenone delle domande sono tutti persone super esperte io mi ritrovo molto nella domanda che ha fatto prima Marilena se non sbaglio che chiedeva appunto spunti su imparare da zero però ho visto che gli hai dato volevo solo farti una domanda quando nella penultima slide delle conclusioni hai detto paragonabile al software proprietario stai intendendo che si può usare in produzione cioè non solo per mettetemi a tutti i colleghi la battuta per giocarci ma fare usarlo proprio in produzione per servizi per esempio per servizi professionali richiesti o cose del genere allora perché io ti rispondo per quello che so poi facciamo rispondere a Piero che che vende servizi è maturo è maturo l'abbiamo visto prima i risultati quelli lì parlano abbastanza chiaro adesso non so se sia meglio PX4D o drone deploy ma da quello che ho visto mi sembra meglio drone deploy i risultati sono paragonabili a quelli lì perciò se puoi farlo con drone deploy un'attività commerciale lo puoi fare anche con open drone map adesso quello qui è la mia parte il mio punto di vista facciamo rispondere a Piero che magari è un'ottima domanda anche perché è difficile è difficile fare il confronto vero? guardi delle immagini dici ok sono delle immagini ma sono accurate giusto oggi mi è arrivata una mail che mi chiedeva ma ho fatto girare PX4D ho guardato open drone map ma pensi che PX4D internamente usa open drone map? ovviamente la risposta è che no PX4D ha il loro codice proprietario che non usa open drone map però elenca il punto che siamo al punto dove i risultati sono non solo comparabili ma è difficile dire la differenza perché sono veramente veramente simili in termini di qualità ora guardare gli output in maniera guardare gli output solamente non ti dà un'idea di chi Gero sta usando cioè ci sono giocatori che utilizzano questo sistema in produzione la risposta è sì abbiamo degli utilizzatori enterprise di grandi dimensioni ad esempio il dipartimento dell'interno degli Stati Uniti utilizza open drone map per fare scansioni delle loro coste dei loro parchi e di una serie di altri di altri posti quindi parliamo di integrazione a livello veramente più che commerciale governativo abbiamo utilizzato open drone map per all'interno di grandi aziende ad esempio Bayer della Germania utilizza open drone map per scansionare i loro campi agricoli e Bayer ha veramente Bayer ha acquistato Monsanto Monsanto ha ettari e ettari di terreni e fa delle scansioni a livello di millimetri sulle loro piante ogni giorno tramite droni quindi utilizzano open drone map per fare questi processamenti adesso non so se guardare queste entità e dire se lo usano allora open drone map è stabile per noi questo è un punto aggiuntivo che ci dimostra che i loro scienziati direi che l'effetto emulazione è garantito voglio dire insomma lo posso usare io e quindi contribuiscono allo sviluppo al mantenimento del progetto Scusa puoi ripetere l'ultima domanda? Se appunto grandi aziende appunto come Monsanto o Bayer contribuiscono al progetto di sviluppo e di mantenimento Allora al momento per dire la verità no non non contribuiscono indietro le ragioni sono le stesse che affliggono altri progetti open source alla fin fine è difficile convincere le aziende a finanziare qualcosa a fondo perduto a meno che non hanno la necessità di aggiungere nuove features abbiamo ricevuto dei contratti da altre organizzazioni che non sono quelle che ho elencate dove abbiamo costruito delle features in base in base alle loro richieste quindi abbiamo ricevuto supporto commerciale da altre organizzazioni però non di dimensioni di questi giocatori grazie e allora Luca cosa dici facciamo dieci minuti di pausa ci vediamo alle quattro e mezzo Luca sei muto scusa quattro e mezzo facciamo un quarto d'ora va bene quattro e mezzo ci sono altre domande perché la parte successiva è direttamente un po' più operativa quindi se magari ci sono delle altre domande così un po' più generali adesso le possiamo fare adesso e poi partiamo se no andiamo tra l'altro vedo che ciao Carlo non so se hai visto la risposta di se non vedi la risposta di Luca Mandolesi che dice che loro lo utilizzano in produzione nella loro ditta perciò c'è già il concreto in Italia che lo utilizza ottimo ottimo alle conferenze che OSG sponsorizza e partecipa siamo nelle parti iniziali di mettere OpenDromap sotto l'ombrella di Software Freedom Conservancy che è un'organizzazione che si occupa di dare una casa non profit a dei progetti open source questo è tutto nelle fasi preliminari e non c'è ancora nulla di solidificato ma stiamo sicuramente andando verso la direzione di di avere una una comunità e un'organizzazione formale per il progetto per il momento siamo un gruppo di appassionati che contribuisce all'ecosistema molto appassionati mi sembra dei risultati ok ci vediamo fra un po' allora allora grazie a tutti Partire Ok, rieccoci, adesso incominciamo con la parte più pratica, condivido lo schermo, ok, rieccoci qua su WebODM e il processo che abbiamo lanciato prima per me ha completato, ci ha messo 4 minuti e 7 a processare 14 immagini, perciò relativamente poco. Ecco, abbiamo visto i vari output, possiamo guardare adesso, ok, siamo qua, come c'è scritto oggi abbiamo preferito di calcolare in modo veloce piuttosto che avere una grande qualità. Qualità, ovviamente sono 18 immagini, non sono troppe e potremmo magari mettere qualcosa in più però per adesso va benissimo così. Allora, cominciamo a visualizzare un po' le ortofoto e tutta la parte 2D, perciò se clicco su View Map, ecco lì che si vede la mia mappa, la mia ortofoto. Magari cambio lo sfondo in modo tale che, ok, mettiamo OpenStream così si capisce bene qual è la nostra immagine e possiamo vedere che l'immagine è stata ricostruita bene. Potete notare le macchine ben definite, la panchina e l'ombra che rispecchia bene o male l'elemento. Non mi sembra che ci siano grossi artefatti, perciò la ripostruzione è avvenuta, forse l'unica cosa un pochettino qua, questa parte qui dove c'è bianco, probabilmente lì c'era qualche problema. Dopodiché possiamo effettuare delle misure, perciò se creiamo la nuova misura, se clicco su due punti, da qui a qui, mi dice quale sono le coordinate, il sistema di coordinate scelto, ovviamente in questo caso è latitudine e longitudine e mi calcola anche quanti metri sono. Oltre che ai piedi, faccio fine misura, posso concentrarla oppure posso cancellarla e farò la stessa cosa per creare un'area. Seguo più o meno questo elemento qua. E poi col tasto destro, quando arrivo di nuovo sul primo punto, mi dice che... L'ultimo punto mi dà soltanto, in questo caso qua, mi calcola la distanza del perimetro, perciò 61 metri, e mi calcola anche l'area interna, 272 metri quadrati. Questo qua per modificare la base map, è possibile caricare per esempio un geojson o uno shapefile zippato sopra la mappa, è utile per vedere, magari abbiamo dei valori di riferimento e possiamo utilizzarlo per vedere se la georeferenzazione, la rettificazione ha funzionato correttamente. Questo qua ci permette di calcolare le linee di contorno. Adesso magari vi faccio vedere dal DSM e poi con il DTM cosa cambia. In realtà, qua in basso probabilmente cambierà un po', perché qua ci sono tutti gli alberi. e invece se prendo il DTM, come vedete da parte qua degli alberi, la casa, tutto questo albero qua è ancora rimasto, perché probabilmente il DTM non è dei migliori, però potete vedere che con il DTM le cose di livello sono sicuramente più accurate. Posso anche scegliere l'intervallo, perciò posso ridurlo o posso aumentarlo a 2 metri, per esempio, in teoria dovrebbero dimezzarsi. Ok, ha tolto quelle di mezzo e abbiamo ottenuto questi qua. Se clicchiamo sulla linea di livello, l'isolinea, ci dice anche qual è l'altitudine di quella cosa di livello di 160, 162, quali dovrebbero essere a 164. A questo punto qua poi posso anche esportare le mie curve di livello in uno dei formati più comuni, Geo Package, che è quello che viene consigliato essendo il primo, e infine lo Shapefile. È possibile condividere con un permalink la vostra immagine, è possibile giocare anche sull'opacità, perciò possiamo rendere più opaca o più trasparente la nostra foto aerea, e infine possiamo passare a una visualizzazione full screen, in caso di quando volete zoomare molto o avete dei voli più grandi e poi potrebbe essere utile. Il secondo bottone in alto è lo stato delle piante, in questo caso qua non ha tanto senso perché noi abbiamo un RGB, lui fa il calcolo, ma come potete vedere, in teoria le parti più verdi dovrebbero essere quelle più elevate, ma comunque dove c'è del verde, in realtà, se guardate, prende le ombre. Dove c'è ombra, essendo un RGB, lui facendo le analisi la riconosce come aree verdi. Nel suo caso anche le macchine vengono riconosciute come aree verdi, invece solitamente vengono classificate come, di solito vengono come meno uno e perciò non è sicuramente verde. Vi farò vedere poi invece lo stato delle piante su delle foto multispetrali, dove secondo me ha più senso farvi vedere. Luca, se selezioni i vari, quello è un indice che può utilizzare un po' i canali RGB? Quale il vari? Il vari, sì. Ti mostra un indice di verdezza, di quanto verde sono le immagini. Sì, dai, questo qua è più accurato, cioè è più realistico. Sempre comunque le ombre degli alberi, le sembrano che siano comunque delle parti molto vegetali. Sì, qua ci sono, vedete, molti algoritmi. Sono quelli di Grass, giusto, questi qua? Gli algoritmi li abbiamo aggiunti interamente a WebODM, però sì, sono probabilmente gli stessi, perché abbiamo fatto riferimento a pubblicazioni esistenti, quindi sono probabilmente identici. E qua è possibile cambiare anche la tipologia di ricolorazione, è possibile invertirla e fare vari giochini. E' possibile anche far vedere dove sono state prese le immagini, per esempio, perciò per ogni camera che ci dice qual è l'immagine a cui si fa riferimento da questa foto qua. e direi che possiamo passare al modello delle superfici, le camere magari, e qua ci fa vedere le superfici reali, perciò possiamo riconoscere la struttura, le macchine, gli alberi, questi qua molto più delineati, questi qua un po' meno. Anche qua possiamo cambiare la colorazione, questo qui ha un pochettino più senso rispetto al terreno, si può mettere l'ombreggiatura oppure no. Ovviamente è possibile sempre esportare un Geotiff e anche qua è possibile ridurre, per esempio, l'elevazione in modo tale, e da, forse anche, ecco, graficamente, ridurre gli outlier e avere un colore un po' più terroco così. Vedete che tutti questi pixel qua, che probabilmente erano sopra a 164 metri, sono stati colorati in grigio, nero, non gli viene applicata nessuna tabella dei colori. Facendo lo stretch, un po' vengono piano piano colorati e se lo portiamo fino alla fine, in teoria, vedete, sono tutti colorati, anche questi pixel qua, che prima erano comunque in grigio. Stesso discorso vale per il modello del terreno. Come abbiamo visto anche prima, il modello del terreno cambia e appiattisce tutti gli elementi di superficie e non a livello del terreno. In questo caso qui abbiamo preso i parametri standard che fanno un buon lavoro, per esempio sulla casa hanno fatto, sull'edificio hanno fatto un buon lavoro, e sulle macchine così e così sicuramente hanno un po' ridotto, però non è che hanno appiattito completamente. Andando a giocare con dei parametri che sono collegati a PIDAL, che è un altro di quei software che si sono integrati all'interno di OpenDropMap, PIDAL è una libreria di astrazione dei dati di nuvole di punti, è un po' il GIDAL per le nuvole di punti e permette di fare alcune operazioni, tra cui il filtraggio da DSM a DTM utilizzando dei parametri. Nella documentazione e soprattutto sul libro di Piero vengono spiegati molto bene per capire come andare a modificare questi parametri qua e ottenere i risultati desiderati. Allora, ritornando un attimo alla presentazione, navigazione, abbiamo visto, col mouse si muove, la rotella fa lo scroll o avete anche i pulsanti qua in bassa sinistra. Le misure, abbiamo visto, sia lineare che areale. Stato dell'assolto delle piante visto, ma lo rivedremo meglio dopo. Stessa cosa per il modello delle superfici, funziona bene. Sicuramente è, tra il modello delle superfici e il modello digitale di terreno, quello delle superfici è più affidabile. però anche quello del terreno è sicuramente un buon punto di partenza su cui poter lavorare un minimo per ottenere dei valori più reali. Adesso passiamo al modello 3D, perciò ritorno. Posso anche cliccare direttamente qua in basso a destra, in teoria, e ci porta sul modello 3D. Qua abbiamo detto, siamo passati da Leaflet, dalla mappa 2D, a Potri, che ci fa vedere la nuova di punti in 3D. e allora, qui devo un po' più ricordarmi, clic sinistro, control click, ci fa ruotare sui 360 gradi. invece, clic destro, clic destro, fa il pan e muove il modello, perciò, dicendo così, possiamo andare a muovere e invece così lo giriamo. ok. Poi, qua dice di, questo qua ci fa vedere o ci nasconde la barra degli strumenti, e poi ci sono i strumenti di misurazione, navigazione, qua, strumenti di misurazione e navigazione. Andiamo a vedere come fare una misurazione e lo zoom lo potete fare con la rotella, direttamente. Adesso, se possiamo fare un'area, allora, una linea, la linea è distanza, la misura delle distanze è il terzo pulsante da sinistra qua, e misuriamo da qui, no, cosa fa? ok, bisogna trascinare e calcolo a 25 metri qualcosa. Adesso vorrei invece passare a una misura a reale per provare a misurare di nuovo questa area. questa area. Sì, qua. No! Allora, aspettate che ha detto la sua presentazione, ok, questo qui, cliccare su, ah, ok, per cancellare quella vecchia. cosa è successo? Si è bloccato un attimo. no, non mi riesco a cancellare. Allora, torno alla dashboard e poi la ricarico. Ok, siamo di nuovo qui, volevo misurare questa qua. Vediamo cosa ci dice sulle misure areali. Quello lì, cliccare con il pulsante su quattro punti. devo cliccare su quattro punti. Vediamo un po'. Uno. Eh no, vedi che non lo so. Però, ieri avevo provato e perché no? Ovviamente la diretta porta sempre qualche problemino. Ieri sono sicuro che funzionava perché l'ho provato a fare. Non so, in questo momento qua per quale motivo eh no. O è qualche problema di browser perché ieri usavo Firefox. Provo un secondo su Firefox e vediamo che cosa succede. Se funziona correttamente condivido l'altro browser. è una questione di browser perciò blocco un attimo la registrazione la condivisione e condivido l'altro monitor l'altro browser. questo qua. Ok, vedete adesso correttamente? Sì, si vede. Ok, qua vedete che funziona correttamente, posso andare a selezionare tutto e ritorniamo ai 264 metri e erano 278 probabilmente ho preso i punti un pochettino alla veloce e più distanziati ok, così e potete vedere che più o meno ci siamo. In bianco fa vedere le distanze tra i singoli punti e in verde invece ci fa vedere all'interno la superficie dell'area totale. Eh, perfetto, crashato per quale motivo? Vabbè, almeno siete riusciti a vedere anche la misura del 3D. Adesso devo riprendere la presentazione e la metto di qua così andiamo avanti a seguire la presentazione. ok, qui eravamo sulle misure areali ok, a questo punto qua proviamo a vedere il modello di tessitura invece che la nuvola di punti. Qua vedete se io continuo a zoomare vediamo i singoli punti. Perciò in questo caso qua è una nuvola di punti. Io qua nella barra dei strumenti in alto c'è texture model clicco su show model bisogna aspettare un attimo che carichi ed ecco lì che adesso non ho più la nuvola di punti ma ho tutta l'area completa. Zoomando al massimo questo qui è al massimo che posso zoomare non vedete i singoli punti ma vedete un'area quella famosa triangolazione che ha fatto prima la spalma qua sopra ovviamente dai lati è più distorta mentre al centro si vede molto bene e perfetto possiamo vedere anche le camere perciò dall'alto possiamo vedere le stesse camere che avevamo visto prima sulla mappa 2D le vediamo anche sulla mappa 3D e anche qua cliccando ci fa vedere l'immagine di quella camera lì e è possibile scaricare l'immagine o scaricare il geogeson della camera le camere le abbiamo visualizzate adesso l'ultimo step è lo scaricamento dei dati torniamo al qui abbiamo il nostro progetto abbiamo il nostro task e a questo punto qua possiamo scaricare i dati come vedete abbiamo l'ortofoto in geotiff abbiamo il terreno il modello del terreno in geotiff e la superficie la nuova di punti come l'az perciò un l'az compresso considerate che non tutti i software leggono l'az mentre il 90% di software che che gestiscono la nuova di punti leggono l'asse che è il formato non complesso è possibile scaricare il modello della tessitura che dovrebbe essere un file obj è possibile scaricare i parametri della camera geojson e è possibile scaricare il report di qualità che adesso scarico e vi faccio vedere però non potete vederlo perché devo condividervi l'altra finestra allora ve lo faccio vedere dopo prima di prima di vedere questo qua volevo riavviare un attimo processo nel senso adesso io vado a fare un paio di modifiche nel senso che prima avevamo detto che la risoluzione era 6 cm la porto a 4 poi quello che voglio fare è ottenere anche l'ortofoto come png cioè avere un ortofoto non soltanto come geotiff ma come immagine e anche la risoluzione dell'immagine portarla da 5 a 4 a questo punto qua io faccio salva salvo anche qua vedi che qua le opzioni sono cambiate ha aggiunto ha cambiato la risoluzione dei dem ha aggiunto che faccia l'ortofoto in png e l'ortofoto la risoluzione a 4 cm a questo punto qua io posso ricominciare la procedura da un determinato punto visto che abbiamo modificato soltanto parametri dal dtm in poi cioè la modifica della risoluzione del dtm e la creazione del png per l'ortofoto io gli dico di ripartire dal dem perciò io gli faccio from dem e lui in automatico riparte a fare starting se guardiamo il log parte direttamente parte con le info e poi ci dice qua running open sfm stage lo fa velocemente fa tutti i vari passaggi finiti e poi incomincia di nuovo qua running odm dem stage e qua vedete che sta cominciando a fare qualcosa calcola ho fatto tutto il calcolo qui è ancora sul coso ma il 448 ha finito ha fatto anche un report nuovo e i dati sono stati tirati fuori per vedere se è cambiato qualcosa lo possiamo notare perché qua abbiamo la possibilità di scaricare l'ortofoto come png adesso vi condivido un attimo l'altro l'altro finestra anzi no potevo anzi continuiamo qua e il pdf lo carico di qua ok vedete il pdf con il report ok qui ci dà un po' di informazioni su quello che è stato fatto ci dice la versione di odm ci dice la data il l'area che ha coperto il tempo che ha impiegato a fare l'analisi poi un po' di informazioni sul processamento usate 18 immagini su 18 c'erano ha utilizzato quasi 9000 punti il 98% di punti e quando è andato a fare la densificazione dei punti è passato da 9000 a 250 megapunti la distanza dei punti sul terreno è di 3.2 centimetri questo è utile perché avendo questa informazione noi sappiamo che non possiamo andare a calcolare una risoluzione inferiore a questo valore qua se noi andassimo a fare un risoluzione di 2 centimetri per pixel andremo a calcolare qualcosa che non è più corretto perché se abbiamo come la media 3.2 andare sotto è un pochettino difficile stare sopra 4 centimetri invece va bene perché ci dovrebbe ricadere almeno un punto qualcosa qualcosa i componenti ricostruiti sono uno quante feature ha riscontrato quante ne ha ricostruite la riferenza geografica perciò del gps l'errore del gps poi qua ci fa vedere il volo che è volato per 93 metri e poi ci fa un po' di preview perciò l'ortofoto il modello digitale della superficie del terreno ci dice anche quante immagini ricadono per ogni singola zona questo è molto utile per ripianificare il volo tipo qua sembra che ci siano poche informazioni perciò probabilmente sarebbe bene se vogliamo anche coprire quest'area qua andare a fare aumentare un po' il numero di immagini e perciò o rallentare il volo o fare un'ulteriore strisciata qua a fianco per andare a coprire un po' meglio questa zona qua qui ci sono tutti gli errori su l'informazione del ground control pole del gps perciò l'errore sulla x sulla y sulla z i dettagli delle feature i dettagli della ricostruzione i dettagli del tracciato perciò il numero di punti tra le immagini e qua per ogni ci dice per ogni punto quante immagini ha trovato ci sono con nove soltanto cinque cinque immagini direi qua ci dà informazioni sull'immagine della della camera e boh direi che qua ci sono tutte le informazioni utili per poter fornire da fornire per un eventuale lavoro sicuramente è una cosa utile perché queste informazioni erano già in open room map però non erano presentate in modo così semplificato e sicuramente è un bel biglietto da visita un report così ok adesso io vi farei vedere le immagini che ho fatto io soprattutto per la parte di di piante e poi possiamo un po' parlare o vedere se ci sono domande se ci sono problemi e richiedere maggiori informazioni ecco qua allora questi due voli qua li ho effettuati due anni fa perciò sono voli un po' un po' datati ho provato a farne uno la settimana scorsa ma non non sono riuscito per inconvenienti tecnici e vi farei vedere prima questo anzi vi farei vedere anche solo questo tanto basta avanza allora tanto vedete quante opzioni ho impostato e di interessanti c'è questo build overview che sono le piramidi sui sui dati perciò sui geotiff vengono creati delle piramidi per far sì che le immagini vengano caricate più velocemente da software tipo QGIS o anche da MOC server alla risoluzione scelta in base allo zoom che si fa lui visualizza una piramide piuttosto che un'altra e perciò è più veloce a caricare i dati ho aumentato a ultra la qualità delle feature perciò fa un controllo più attento gli ho specificato di tagliare le ortofoto e dare creare un un cutline perciò un shape un'area di ritaglio delle ortofoto gli ho detto di esportare anche il il LAS non soltanto il LAS così come la qualità del della nuvola di punti deve essere alta poi questi quattro parametri 5 questi qua rectify true no ma gli altri gli smrf scala eccetera sono i quattro parametri che servono per giocare sulla sulla conversione da dsm a dtm è un po' quello che stavo facendo ultimamente cercare di esportare un dtm di più alta precisione o comunque con meno interferenza degli elementi della superficie perché il risultato con i parametri di default non mi soddisfa pienamente l'altra cosa che gli ho detto che secondo me è utile è quello dell'esportazione di tile in realtà ho visto ho fatto una piccola prova veloce con open layers e essendo queste immagini in utm32 nord non è così immediato l'utilizzo nel senso che non riconosce correttamente la x open layer e perciò non riesce a trovare le immagini però se utilizzate altri sistemi di coordinate tipo vgs84 o quella di default la 3857 che è quella per le mappe online la ex google come sistema di coordinati google dovrebbe funzionare più correttamente penso che per quanto riguarda open layer sia qualche impostazione da da settare su open layer che non ho ancora trovato però vi dico è una cosa che ho provato ieri e non non ho dedicato molto tempo come vedete qua abbiamo molti più output perché tutte le varie output 2d perciò ortofoto modello di terreno vengono create anche le tile e per il resto ebbè c'è l'assa anche come i numeri punti c'è anche l'assa è possibile scaricare un singolo elemento oppure tutto assieme crea uno zip con tutti i risultati adesso vi faccio vedere la mappa rgb perciò questa qui la mia mappa è rgb il risultato è molto buono l'unica imperfezione che si può trovare è qua però diciamo che questa qui è uno steccato è una palizzata per piante che devono crescere perciò pomodori piselli fagioli eccetera è già storta di suo open drop la rompe un po' qua probabilmente c'è qualche problema se no è abbastanza storta di suo rispetto alla versione precedente ho notato un grandissimo miglioramento sui tetti qui qua sono tutti tetti ondulati e le versioni precedenti facevano veramente fatica a ricostruirlo correttamente così come anche questi elementi qua che sono tutti ondulati e poi possiamo passare alla visualizzazione dello stato delle piante lo guardiamo sulla NIR perciò questa qui è l'immagine della camera NIR che viene ricostruita perfettamente anche non avendo i tre canali standard perciò non non importa tanto i canali che ci sono perciò a lunghezza d'onda è in grado di ricostruire tutto lui riconosce delle feature probabilmente in bianco e nero scritte ai tre canali in RGB se andiamo a vedere lo stato delle piante il risultato è molto buono anche se come vi dicevo i parametri non non sono dei migliori perché il range va da meno 2 a più 041 perciò è molto basso però se andiamo poi a vedere il risultato è molto buono qua c'ho la mappa RGB potete vedere tutta la zona di terra è riconosciuta molto bene qua e anche le singole piante cioè qua ci sono tre piante e riesce a riconoscere perfettamente le tre piante stessa cosa si può vedere forse ancora meglio in questa zona qua molto meglio no però comunque si nota abbastanza questa zona qua che sono di nuovo delle piante vengono riconosciute qua un pochettino anche più complessa perché comunque c'è del verde intorno vengono riconosciute abbastanza bene una due tre quattro perciò anche i modelli gli algoritmi per lo stato di salute delle piante funzionano molto bene quando ci sono dei dati che dei dati di input che possono permettere di di calcolarli correttamente anche qua posso poi esportare il GTIF mi esporto il GTIF e lo salvo direttamente sulla sul mio computer questo direi che sono le cose principali che volevamo farvi vedere siamo stati un pochettino più veloci del previsto possiamo vedere se ci sono delle domande o se qualcuno che ha provato a fare anche lui la ricostruzione di immagini scaricate o immagini proprie se vuole se ha problemi o se vuole dire qualcosa direi che possiamo un po' fare tipo aprire un po' di discussione fra tutti i partecipanti io posso fare una domanda ovvio se ci sono delle domande benvenuti a questo punto sì la mia domanda la mia domanda era questa ci avete fatto vedere tutto appunto l'uso di odm da drone c'è Luca Mandolesi che ci racconta sempre invece di riprese anche tra virgolette fortunose con cellulari e cose del genere mi sembra di capire che il principio sia assolutamente lo stesso e quello che volevo chiedere è quanto le condizioni di ripresa che a partire sia dal tipo di macchina dalla macchina fotografica eccetera eccetera anche dalla scelta dei control point poi influisce sulla 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 ripresa e da ultimo scusate l'ignoranza se mi è chiaro avere un ortofoto da una ripresa aerea a partire dalla quale vengono corrette tutte le le distorsioni se faccio una fotografia frontale che cosa che cosa ottengo cioè un avendo un ortofoto su un piano appunto come dire su un piano XZ o YZ non so se sono riuscito a spiegare la mia curiosità allora io rispondo poi se Piero vuole aggiungere qualcosa perché sono impreciso ben venga e vabbè e allora prima cosa qualità delle delle camere eccetera lì più alta risoluzione hai teoricamente meglio è però poi non è neanche vero quello perché poi se vai a fare la ressalde delle immagini non è così necessaria per il per il per il ground control point invece sicuramente è importante avere dei ground control point messi nelle posizioni giusti io in quella zona lì che è il mio orto utilizzo 5 ground control point disposti in modo abbastanza sensato cioè ai lati in modo tale da riuscire a coprire il più possibile con i punti di ground control point quello che ho fatto io che non so quanto sia bello cioè soprattutto Paolo potrebbe sputarmi in un occhio i ground control point sono fatti solitamente di determinati materiali specifici fatti in modo sono quattro quadrati due bianchi due neri di una certa di una certa dimensione eccetera io invece ho dei ground control point un po' fatti manualmente anche per questi qua costano quelli ufficiali costano centinaia di euro ho preso 5 45 giri li ho colorati tutti di rosso e ho fatto una bella piazza gialla sul sul centro e si vedono molto bene adesso vediamo se riusciamo a vederlo dalle foto sulla ricostruzione si vedono solitamente adesso devo controllare però funzionano bene non sono cose lo uso io perché sono lo faccio un po' per giocare ovviamente la scelta non si vede benissimo però si possono immaginare vi condivido un attimo lo schermo poi invece per la parte di di fortunosi eccetera secondo me la parte più importante era per esempio questo qui è uno dei miei control point a terra uno è questo che si vede abbastanza bene ce ne dovrebbe essere uno anche qua uno è questo qui e un altro qua in fondo ovviamente poi sulla ricostruzione se neanche oggetti piccoli non si vede un benissimo uno è qua però alla fine è l'importante che il gran control point lo riesci a vedere correttamente e per quanto riguarda invece foto di facciate eccetera ma il discorso è più o meno lo stesso cioè non non lo non lo georiferisci alla terra però lo georiferisci cioè alla fine quello lì non saranno neanche georiferiti fa la fa la stessa cosa ricostruisce i punti devi avere un bello overlap ma per cose del genere probabilmente non serve neanche un software di ricostruzione lo puoi usare perché fa la stessa cosa ma ci sono software tipo Ugin che è un software di immagini tu li passi dentro tutta la tua cartella delle immagini lui fa lo Trash for Motion stessa identica operazione perciò cerca i punti di i punti uguali nelle diverse immagini e poi le mette assieme perciò più che altro è come riprendi dati più che più che che tipologie di dati no la mia il mio uso è sempre sempre è sempre lo stesso sono in campagna ho un versante voglio ricostruirmi se possibile appunto un volume su cui da cui puoi farci delle misure di giacitura prendere dei punti e individuare una superficie avere l'equazione della superficie per poi derivarmi dei parametri per fare le proiezioni eccetera eccetera insomma il mio scopo è sempre sempre quello sto sempre alla ricerca di qualcosa di molto semplice perché poi alla fine spesso non mi posso permettere un volo col drone o cose del genere ecco sì sì prevalentemente la cosa più importante è che fai la sovrapposizione che le tue immagini siano sovrapposte che riescano a trovare un bel numero di punti tra un'immagine e l'altra perciò quello lì è quanto sì sovrapposizione e poi georeferenzione di almeno una dozzina di immagini fotografi da terra se non hai informazioni geografiche la ricostruzione funziona perfettamente però non è a scala quindi non puoi fare nessun tipo di misurazione a meno che non sai qual è la scala reale della tua ricostruzione il software non è in grado di determinare se è un'immagine a dimensioni reali oppure se stai facendo foto di un modello in miniatura è una cosa ambigua quindi io individuo dei punti di cui ho conoscenza di XXZ banalmente sì sì esatto e li fornisci come ground control point ok grazie lo puoi fare a posteriori poi anche l'orto rettifica sì esatto fai la ricostruzione senza le informazioni georiferite cioè o hai le immagini senza coordinate o non passi il file gcp underscore list punto txt a quel punto lui a quel punto di lui fa tutto tutto il processamento ti tirerà fuori una nuvola di punti senza coordinate ti tirerà fuori delle immagini probabilmente non fa neanche il geotiff ma fa soltanto il png se non mi ricordo male e a quel punto lì te lo devi portare dentro il cugisso o grasso quello che vuoi e ti fai l'orto rettifica dopo chiaro grazie sì l'altra cosa che potrebbe essere mi sembra di aver visto che un ground control point deve essere almeno su quattro immagini se non mi ricordo male ground control point dovresti avere almeno 5 ground control point su almeno tre immagini quindi un totale di 15 linee nel tuo file di ground control per avere risultati ok te la puoi cavare anche con due però la triangolazione non è così accurata quando hai solo due quindi il minimo minimo per risultati decenti dovrebbe essere 5 ground control point con tre immagini per punto per punto ma scusami un attimo questo lo chiedo perché mi velocizzerebbe un po' la procedura visto che io ogni volta devo sciare i ground control point e non ho le coordinate se i ground control point si vedono su più immagini e tu non le aggiungi al ggp list è un problema oppure no no assolutamente fin tanto che tu hai evidenziato il punto in tre immagini non hai la necessità di puntarlo su tutte le altre ad esempio se tu vedi un ground control point su dieci immagini non devi taggarle tutte e dieci puoi taggarne solo tre e va bene lo stesso i risultati sono uguali come se facessi dieci oppure praticamente sì a volte addirittura averne troppe causa problemi o di overfitting nel modello di computazionale quindi a volte fai addirittura dei danni se ne taghi troppe ok perché sì io ci perdo una vita e mezza a taggarli tutti e invece chiaro potrebbe essere bene e vedo che Luca Luca vuoi dirci qualcosa a te sul vostro utilizzo di open drum map visto che sei un buon utilizzatore allora sì così vi dite anche voi cosa dico le esperienze che abbiamo fatto siccome negli ultimi due mesi l'abbiamo provato tanto ovviamente lo consiglio a tutti consiglio a tutti di acquistare il libro perché leggendolo passo passo ovviamente sei riuscito in una settimana arrivare allo stesso livello x4d come ha detto anche Luca non conosci ben i parametri dove andare fare i settaggini giusti poi magari può essere può essere un problema può essere anche frustrante a volte lui lavora arrivi alla fine non ottieni quello che vuoi abbiamo riscontrato delle cose che magari possono essere anche in contrasto con quello che si che si legge perché probabilmente come dice Piero abbiamo dei dataset magari un po' particolari perché abbiamo provato veramente il low cost cioè stiamo usando adesso una macchina fotografica scafandrata della Fuji per fare le foto subacquee in vacanza da 100 euro e la stiamo usando tenendola in mano con un braccio in alto cioè noi andiamo a fare i sondaggi archeologici la teniamo in alto col braccio e otteniamo un modello 3D che per noi è perfetto cioè per quello che dobbiamo fare tra l'altro con WebODM sul server quindi tutti mandano con un con un tethering col cellulare dal campo mandano nel server centrale in ufficio abbiamo pagato uno sviluppatore 500 euro che ci ha installato la macchina Linux virtuale quindi noi lavoriamo da matti in questo momento con WebODM e bisogna essere un po' smanettoni cioè forse la curva di apprendimento di WebODM all'inizio è quella mi sono anche accorto che io lo so per primo perché col plugin che sviluppo si fa fatica veramente le cose cambiano di continua quindi c'è un pelo di differenza tra l'installazione consigliata su Btab e l'installazione della documentazione quindi consiglio a tutti di usarla entrambe quando provate a installare ma io ho installato sul server Linux su Windows 10 e su Windows 7 addirittura bisogna prendersi la mattinata star lì 4 ore col tè avere pazienza e non avere fretta ho notato che ci sono a seconda dei dataset risultati diametralmente opposti per le ortofoto se si ricava dal 2D e mezzo prima ho messo una domanda in questo senso quindi se si usa il DEM bisogna aumentare la risoluzione del DEM per fare questo bisogna aumentare il parametro di OCTRI la DEPMAP quindi se andate a vedere poi capite che cosa sono tutti questi parametrini lui in pratica lavora di più e va a cercare sempre più profondità nel modello e l'immagine che noi ottenevamo come nitidezza eh occhio come nitidezza quindi come anche un po' bello estetico dal 2D e mezzo non era non era la stessa che ci aspettavamo e che vedevamo in TX4D usando 3D Mesh il parametro 3D Mesh quindi un ortofot della Mesh e usando il parametro area che ho imparato leggendo la guida beh è venuta una cosa strepitosa e siamo riusciti a fare una pubblicazione per l'agricoltura di precisione con l'Università di Padova quindi adesso appena esce chiedo se posso liberare questo piccolo dataset di foto con tutti i parametri che noi abbiamo usato per avere lo stesso risultato di PIX4D e anche lì poi come dice Piero io non so se PIX4D è più preciso o più bello perché c'è anche questo da dire io vedo una cosa che ai miei occhi dicono che bella magari dico che è migliore ma poi non è vero dopo sono le misure che fanno la differenza con me poi vedrete come si passa poi da WebODM a QGIS visto che sono arrivate le nuvole di punti e poi vedremo il passaggio a Blender quindi farò vedere anche l'altra l'appuntamento non mi ricordo neanche quando è a maggio sì è uno degli ultimi se non mi ricordo male l'ultima ruota del campus va bene però ecco prima mi sono permesso di mettere il gruppino Telegram siamo i WebODM fan club ho lanciato questo gruppino Telegram dove io quando rimedio qualcosa metto che cosa ho fatto che parametri ho usato ci scambiamo idee c'era Fabio prima che faceva le domande per poter fare i rilievi in loco con una stazione totale o dei control point presenti di fortuna e provarli magari lo stesso a fare un modello scalato anche se si hanno dei parametri per ora sta funzionando tutto bene l'abbiamo anche usato con foto da terra dentro una chiesa quindi ho fatto un'intera cappella maggiore affrescata con WebODM con degli zoom spaventosi agli affreschi ai piedi della Madonna che stavano su a sei metri d'altezza quindi ero in basso ho fatto le foto l'unica cosa è che il modello è ribaltato cioè WebODM crede che noi stiamo volando quindi io mi sono trovato tutte le camere in alto e la chiesa capovolta però poi portandoli in blender scalandoli in blender è un modello che avevo ottenuto solo con un photo scan metashape non ero mai riuscito ad arrivarci con meshroom per dire ecco impressionante la potenza che ha il software in questo momento finito bene grazie mille Luca mi sembra che fa piacere sapere che che viene utilizzato già in produzione come chiedeva Stefano prima sì se c'è appunto qualcuno che ha voglia di parlare tanto vedo che comunque in chat la comunicazione continua a continuare domande Piero allora io rispondo un attimo a Massimiliano che dice che l'overlay tra foto di l'ortofoto di Google satellitare dà un errore di tre metri allora non prendete per buono Google satellite come come affidamento di precisione essendo foto satellitari hanno una risoluzione cioè hanno una precisione spaziale abbastanza bassa e poi non so in che zona ti trovi ma considera che non vengono ortorettificate perciò non li viene spalmato sotto il modello di terreno e questo comporta dei grossi dei grossi non errori ma delle grosse differenze specialmente in zone montuose oppure potrebbe essere una mancanza di gcp però comunque sia non prenderei Google satellite come come modello di riferimento se volete prendere un servizio di foto aeree per l'Italia abbastanza affidabile il più affidabile che conosco a livello italiano è il portale cartografico nazionale che sono immagini datate però sono ortoretificate correttamente e l'errore dovrebbe essere basso di quelle AGEA ne parliamo soprattutto in montagna però non so quelle AGEA non sono pubbliche perciò non sono accessibili facilmente come quelle portali le ultime portali sono quelle del 2012 e quelle lì sono mi sembra ancora abbastanza buone sì no poi le regioni chiaro poi ogni regione poi prende iniziative e pubblica lo stesso vedi proprio per le ultime AGEA che per il Piemonte sono quelle del 2018 noi insomma il WMS l'abbiamo pubblicato stessa cosa la Toscana l'Emilia Romagna il Veneto insomma la Fili ci si svincola un po' e ci si prende un po' di responsabilità e si pubblicano lo stesso le pagate ci mancherebbe ancora che non è possibile pubblicare no vabbè è un discorso che non va fatto in questo momento qua non lo so cosa possiamo ancora farvi vedere Piero ti viene in mente qualcosa che non abbiamo citato che magari da da approfondire un po' posso dare qualche parola una delle funzionalità più che ci differenzia dalle soluzioni commerciali possiamo dire che dove veramente si riesce a vedere il vantaggio di avere una situazione open ed abilità di processare dataset di larghi dimensioni la maggior parte delle persone solitamente non ha un gran numero di immagini da processare in base alle statistiche del mio servizio cloud la maggior parte dei dataset è sempre sotto le 500 immagini quello è il 98 99 per cento di tutti i processamenti tuttavia ci sono alcune situazioni in cui una persona o un'organizzazione ha la necessità di processare 5.000 10.000 50.000 immagini a quel punto la maggior parte dei software commerciali ti dice no non è supportato open draw map invece ha questa funzionalità interna chiamata split merge che ci permette di dividere il modello di grandi dimensioni anche di mi pare che il più grande che abbiamo processato è circa di 87.000 immagini il software internamente è in grado di dividere il modello intero in sottomodelli quindi creando delle zone di ricostruzione che hanno un po' di overlap e ogni area viene ricostruita indipendentemente anche utilizzando dei server diversi in parallelo e ogni sottomodello viene poi rimesso assieme tramite degli algoritmi di merging dove si riesce a ricevere a ricostruire una ricostruzione globale quindi ci permette di processare dei dati a scale veramente veramente enormi che in altri software non è neanche un'opzione sei in muto Luca scusate perciò il software è in grado già di riconoscere quali immagini vanno in una determinata cioè di raggruppare le immagini o le sposta tutte e poi lavora soltanto sulla determinata parte e controlla quelle immagini che trova è in grado di dividere l'area in più gruppi finendo che le immagini hanno delle informazioni di georeferenziazione lui è in grado di dividere le aree in diversi cluster in diversi gruppi ok perciò le immagini però devono avere nell'exif le coordinate eh sì sì quella è necessaria ok se fai con il ggp list non funziona correttamente esatto ok ok allora così mi torna a più a senso sì e le opzioni per attivare questa funzionalità sono semplicemente due c'è un'opzione chiamata split e una chiamata split overlap che decide quante immagini per ogni sottomedello circa ogni sottomodello deve avere è split overlap che dice ogni sottomodello dovrebbe eh avere un overlap di questi tanti metri quindi tramite quei due parametri il software è in grado di eh dividere e processare eh sottomodelli e può farlo sia in locale può farlo sia in locale che usando dei computer nel cloud oppure dei computer locali tramite cluster odm e uno dei vantaggi è anche che se hai un computer che non ha memoria è sufficiente spesso parliamo dei requisiti di memoria di open drum map che possono essere alti se uno ha un dataset di variate migliaia di immagini ma non ha un computer sufficientemente potente utilizzando la funzionalità di split merge uno può processare il dataset in parti più piccole quindi può dividere il dataset con l'opzione split eh il dataset viene ricostruito parte per parte senza sovraccaricare la memoria e poi viene messo assieme tutto in locale ok perciò funziona anche con un solo nodo quello che stai dicendo sì sì esattamente ok un'altra cosa che ti chiedo che mi hanno chiesto un amico quando tu lanci web odm tramite docker hai l'opzione hai la possibilità di creare più nodi sì sì esatto giusto e qual è la strategia per creare più nodi cioè una per il risore una per dipende da te veramente l'idea di lanciare più nodi nella parte più più semplicistica l'idea è che se hai un computer abbastanza potente e vuoi processare dei task in parallelo puoi lanciare due o tre nodi e processare più tasks in parallelo utilizzando dei nodi diversi siccome anche se il software cerca di utilizzare al meglio le risorse disponibili ci sono alcune parti della del programma che utilizzano ad esempio una singola cpu per alcune parti quindi se tu lanci due nodi teoricamente se hai un computer successivamente potente puoi ottimizzare l'uso delle tue risorse perché anche quando la pipeline arriva ad un punto dove sta utilizzando una sola cpu magari il secondo nodo può continuare ad utilizzare le risorse per processare un altro dataset quindi l'idea è un po' sì di lasciare agli utenti la possibilità di processare più dataset in parallelo utilizzando più nodi ok e un'altra cosa che voglio dire dello split allora mettiamo che io lancio webodm con quattro nodi poi ho questo set grande faccio lo split e lui in automatico cioè io nelle opzioni lascio auto e lui in automatico si va a prendere i nodi lui no quella sarà una bella funzionalità dovremmo considerarla al momento devi configurare un'istanza di cluster odm quindi il processo per utilizzare i nodi multipli è quello di configurare un'istanza di cluster odm su cluster odm aggiungi i nodi e dopodiché crei il task su webodm mandando tutto sul nodo cluster odm ok perfetto sì quindi è un po' più un po' più elaborato il setup e questo sarebbe possibile anche tramite docker giusto? sì 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 assolutamente tu puoi lanciare cluster odm con docker abbiamo immagini per docker per tutto il software ok bene questo qui sicuramente può essere utile per chi fa grossi voli ecco questa qui è un'altra bella domanda che avrei voluto farti anch'io vantaggi di un nodo micmac rispetto a un nodo classico o svantaggi anche svantaggi l'ottima domanda beh micmac è un software eccezionale se si riesce a guardare a farlo funzionare gli algoritmi dentro micmac sono sono veramente straordinari il vantaggio è che usando micmac hai appunto accesso al agli algoritmi di micmac che sono solidi il professore che che coordina l'effort di micmac è un fotogrammetrista eccezionale ed è da anni che sviluppa il software quindi i risultati che si prendono con micmac sono a volte anche superiori non c'è nulla di male da metterlo il problema di micmac è che siccome è un po' difficile da usare in tutti gli anni che l'abbiamo studiato non siamo riusciti ad esporre ma le funzionalità più semplici del software le opzioni che hai a disposizione sono molto minori oltre a questo avrai anche probabilmente più problemi di memoria di ottimizzazione non sarai in grado di processare dataset dimensioni grandi come riesci con un nodo classico quindi io raccomando di provare alla fine sono entrambi open source sono entrambi esposti tramite webodm file processing con un nodo classico provi con il nodo micmac fai il confronto vedi quale funziona meglio ma ok io ho provato micmac diverse volte e non sono mai riuscito ad arrivare ad avere un'ortofoto ma credo no ma credo che il problema sia la sui dati perché proprio da degli errori strani che avevo provato anche a contattare i sviluppatori e mi avevano detto che probabilmente c'era qualcosa sui dati però detto questo per installare il nodo micmac che cosa c'è anche di un docker oppure bisogna perché ah ok c'è il docker che installa quando tu lanci webodm c'è una flag mi pare che sia trattino trattino with micmac e passando quella flag lui automaticamente ti installa un nodo micmac nell'installazione ah bello ed è un po' di tempo che non l'ho provato quindi bisogna verificare che funzioni correttamente ma penso sia ancora funzionante perfetto ma l'avete sviluppato o l'aveva fatto qualche un altro? il nod micmac era una contribuzione da un da un contributore eh infatti mi ricordo da JP che è un lui è il sviluppatore di DroneMapper che è un altro software di fotogrammetria commerciale ok bene qualche altra domanda se volete mi sembra che siamo che non ci siano altre domande e niente metteremo poi eh a disposizione la la presentazione di 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 Luca e di Piero e ovviamente il il video appena appena possibile ecco in teoria lunedì prossimo in teoria sì infatti se vediamo se facciamo in tempo ma direi che ormai ci siamo ci siamo e devo dire che la cosa per me che non so assolutamente niente di ste cose mi si è aperto un mondo mi fa un po' paura la la quantità di risorse che vengono chieste ai ai computer per fare queste elaborazioni però insomma quasi quasi cioè web odm lighting non ti richiede nulla poi ti attacchi al serve al servizio di Piero e non hai problemi e tra l'altro i costi non sono non sono alti eh almeno io ho visto e tra carriere al mente con poco cominciamo a a capire poi non so se ci siano ancora i miei colleghi Carlo Roagna e e e e Alessia del del servizio geologico regionale non li vedo più magari sono andati via e del servizio geologico e quindi cominciare a giocare anche con loro con i con loro hanno preso uno un paio di droni io sono un po' curioso di queste sempre per i miei giochini di stabilità dei versati ma sì qualcuno diceva per il piano di volo eh c'è una una issue aperta dal duemila e quattordici quindici mi sembra sul codice di open drum map per raggiungerlo quindi o è particolarmente difficile o è particolarmente o è particolarmente interessante no secondo me sono due cose un po' diverse cioè un conto è la fotogrammetria un conto è pianificare il volo ci sono un paio di software open source che lavora molto bene che sono con ground control mission planner che direi che possono funzionare bene però ovviamente se arriva come dice Piero se arriva un contributore che lo fa può essere può essere utile è uno dei progetti che si è da lungo tempo nella wish list nella lista dei desideri il problema principale non è la difficoltà di scrivere il codice il problema è aggiungere il supporto integrato per tutti i vari droni e poi pubblicare le apps negli app store perché la gente vuole il supporto per mobile e poi aggiungere il supporto per quel controller e quel dispositivo quella è la difficoltà maggiore anche perché un sacco di questi dispositivi sono tutti proprietari e quindi cominci ad avere problemi non solo anche di scrivere il codice ma di trovare una licenza trovare un modo per pubblicarli anche solamente il fatto di pubblicarlo sull'app store usare la gpl comincia ad avere problemi combini il problema di pubblicare negli app store proprietari con gli sdk proprietari e il fatto che si aggiornano ogni anno e mezzo ed è un lavoro sostanziale che purtroppo al momento non abbiamo le capacità secondo me con un contributore dell'idea che i software devono far bene poche cose ma farle bene quando cominciamo a farne troppe poi si perde un po' il punto di vista di quel determinato software però quello qui è la mia idea direi che ora come ora open drum map fa molto bene la parte di fotogrammetria di ricostruzione e se vanno e se ci devono essere degli investimenti di tempo risorse per per sviluppare qualcosa devono andare su quel verso quella parte lì anche perché attualmente a parte micmac penso che open drum map sia l'unico altro software che fa tutta la ricostruzione comunque software semplici diciamo e con risultati di qualità abbastanza elevata è l'unico che funziona così bene bene se non ci sono altre altre osservazioni curiosità eccetera chiudiamo con un po' di anticipo ma ovviamente siamo tutti disponibili approfitterei della presenza di Luca e Piero nella disponibilità e poi eventualmente ci si sente ci si trova online facilmente senza problemi mi aspettavo Luca Mandolesi che ci avrebbe avrebbe ci avrebbe riempito di domande eccetera no ma l'ha fatta un po' mi sa due o tre settimane da quando abbiamo annunciato il webinar si è messo a studiare e ha colmato tutto il gap Luca sta lavorando non ci ascolto bene allora possiamo chiudere qua ringrazio ovviamente Luca e Piero per la disponibilità per aver a me personalmente aperto un mondo se avete chi ha partecipato ha voglia di compilare il questionario di gradimento sulla nella pagina dell'associazione in cui ci sia il programma vi diciamo grazie perché così riusciamo eventualmente a tarare meglio sia gli argomenti nell'ultima chiacchierando sui social sono venute fuori alcune richieste di approfondimenti e quindi vediamo se troviamo le competenze dentro l'associazione per appunto per organizzare questi ulteriori webinar e niente vi ringrazio e possiamo chiudere chiudere qua a